Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, consentitemi di salutare il pubblico presente che ci segue a casa, Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri tutti, la Polizia Locale e i Dipendenti Comunali che garantiscono il funzionamento di questo Consiglio Comunale. Passo la parola al Segretario che saluto anche lui per l'appello. Di Stefano, Bonato, Cagliani, Calini, Coccetti, Cupido, Foggetta, Garotta, Gatti, Ghezzi, Amdi, Maderloni, Milazzo, Molteni, Montrasio, Nigro, Pagani, Pastorino, Pini, presente Pogliaghi, Ricupero, Romano, Turolla, Valsecchi, Vinccelli, 23 presenti, poi Aiosa, Fiorino, presente La Miranda, Lanzoni, Nisco, Paterna, Pizzocchera Abbiamo il numero legale, la seduta è valida, ci alziamo in piedi per Rino Nazionale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Procediamo con la nomina dei tre scutatori, consigliere recupero Molteni e Milazzo. Vi ringrazio come al solito. Prima di iniziare questo Consiglio Comunale, l'intero Consiglio Comunale appunto si vuole raccogliere in un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di persone che hanno lasciato sicuramente un segno nella nostra città. Vogliamo ricordare Roberto Timossi che è stato presidente del Posal Basket di Sesto San Giovanni, Maurizio Merlotti presidente e consigliere di circoscrizione 3 nonché volontario per emergency a Sesto San Giovanni, Domenico Maffei colonna portante dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Sesto San Giovanni e Giorgio Langella storico collaudatore Alfa Romeo che è stato titolato maestro del lavoro sezioni di Sesto San Giovanni riconoscendo appunto il suo inestimabile contributo. Approfitto anche per fare le condoglianze alla consiglia Rapini a nome di tutto l'ufficio di presidenza del Consiglio per la recente perda del papà. Ci raccogliamo in un minuto in silenzio, grazie. Grazie Grazie a tutti Iniziamo con le proposte di delibera all'ordine del giorno Non avendo eh nei discursi in capigruppo volevo proporre all'interno 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 consiglio comunale se in merito alla prima la seconda delibera firma del sindaco di Stefano può procedere con una presentazione unica poi naturalmente andremo alla alla doppia votazione e alla doppia discussione. Se non ci sono osservazioni procedo intanto a annunciare le proposte di delibera. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 267 del 2000. Approvazione seconda variazione al programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026. Seconda proposta di delibera riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000. Passo la parola al sindaco di Stefano per la loro presentazione. Grazie presidente, buonasera a tutti quanti. Farò un'unica presentazione andando a dettagliare quando arriviamo al punto del riconoscimento del debito fuori bilancio così come è avvenuto in commissione. Tenterò anche di essere abbastanza veloce vista la nutrita presenza sugli spalti oggi di lavoratrici e cittadine interessate probabilmente immagino alla successiva delibera. delibera mi fanno di sì col capo immagino tenterò di essere velocissimo facciamo così allora ehm il rendiconto che eh abbiamo approvato portava un avanzo di amministrazione di cinquantaquattro milioni cinquecento ventidue mila euro eh suddiviso tra fondi vincolati fondi accantonati destinati a spese di investimento e fondi liberi è possibile eh usufruire una volta accertate che le risorse confluite nel l'avanzo vincolato al cantonato e libero eh possono essere destinate al bilancio del l'anno successivo del duemila e ventiquattro quindi riassegnate eh tramite la variazione di bilancio con questa delibera intendiamo utilizzare quota parte di quello che è l'avanzo d'amministrazione per diciassette milioni trentaquattro mila euro ehm di cui eh dieci milioni trecentomila euro eh parte eh spese in conto capitale e il rimanente ovvero sei milioni seicento e trentanove mila euro eh parte corrente entrando nel merito di questi dieci milioni parte capitale dieci milioni trecentomila euro abbiamo un trecento duecentotrentamila euro eh di avanzo da fondi vincolati per il super per l'eliminazione di quelle che sono le barriere architettoniche due milioni seicentotrentottomila euro come quota di avanzo vincolato per la realizzazione della piscina eh Marzabotto e per la realizzazione dello sportello polifunzionale in sostituzione dell'attuale anagrafe sette milioni quattrocentotrentamila euro come quota di avanzo libero derivante da fondi destinati a spese di investimento nella in particolar modo novecentomila euro di questi settecento qua eh sette milioni e quattrocentotrentamila euro sette novecentomila euro sono l'accordo quadro sulla manutenzione straordinaria per le scuole e gli uffici centomila euro l'accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli ascensori nelle case per i servizi abitativi pubblici centomila euro l'accordo quadro per la manutenzione straordinaria per gli ascensori nelle scuole trecentomila euro per gli interventi di adeguamento agli appartamenti SAP, 1.400.000 euro per quanto riguarda la caserma dei carabinieri con il progetto di adeguamento sismico finanziato da fondi propri, 40.000 euro l'arredo dello sportello polifunzionale e così via tutta una serie di interventi e coperture minori. Per quanto riguarda la cyber security e l'adeguamento anche a quella che è la normativa nazionale per la tutela dei dati e sulla sicurezza oltre agli investimenti per quanto riguarda il cablaggio delle reti sono 380.000 euro che vengono destinate al servizio Information Technologies, un milione e mezzo sono le risorse destinate alla manutenzione del servizio strade sia ordinaria che straordinaria, 85.000 euro le risorse destinate alla polizia locale e alla protezione civile per quanto riguarda l'attrezzatura quotidiana operativa per i nostri agenti sul territorio ma anche per quanto riguarda i nostri ragazzi, le nostre ragazze della protezione civile per combattere quelle che sono le emergenze molto spesso climatiche che affrontiamo. Andando avanti poi abbiamo, cito quelle che sono le voci più importanti sul bilancio, 385.000 euro per quanto riguarda i servizi cimiterali per la costruzione di nuovi ossari, l'area di dispersione ceneri e un intervento di bonifica al cimitero di piazza Hiroshima e Nagasaki. L'ultimo settore che è il settore cultura avrà 170.000 euro per l'acquisto di attrezzature all'interno della sala comunale per la realizzazione di impianti video mobili e per la riqualificazione del centro polivalente di spazio arte grazie a un contributo di 500.000 euro, la quota parte che mette il comune di Sesto San Giovanni, contributo assegnato dalla fondazione Cariplo. Andando avanti con gli interventi spese in conto capitali sono 2.700 euro, un investimento per quanto riguarda la sicurezza per l'acquisto di telecamere all'interno delle scuole, poi passiamo a quelli che sono i finanziamenti delle spese in conto corrente ovvero 6.739.000 euro dove le prime due voci sono esattamente la prima delibera, la riconoscimento dei debiti fuori bilancio che cubano 7.529 euro di cui 1.000 euro sono una mancata indicazione da parte degli uffici per quanto riguarda gli impegni contabili per gli esperti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali impianti di pubblico spettacolo che devono essere riconosciuti, i rimanenti 6.529.000 euro a seguito di sentenze di cui 858 euro una revoca di un'autorizzazione a un impianto pubblicitario, 4.000 euro un ricorso per la cancellazione anagrafica, 400 euro un ricorso per delle penali sui interventi di lavori pubblici, 800 euro un ricorso per l'occupazione abusiva, 86 euro per due multe annullate dal giudice di pace su ricorso durante il periodo del covid. Andando avanti ci sono 2.655.000 euro di avanzo vincolato derivante da trasferimenti regionali e destinati ad attività come il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo Nazionale per la Lotta alle Povertà e all'esclusione sociale di 2.100.000, il Fondo per l'amorosità incolpevole, il Fondo Nazionale per il Sistema di Educazione e Distruzione 06 anni, oltre a questo ci sono 330.632 euro come avanzo accantonato per quelli che sono i rinnovi contrattuali e 3.729.000 euro come quota parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che viene svincolata e che genera quello che è l'avanzo di bilancio tra le maggiori entrate e le maggiori uscite dove il Delta è appunto il fondo che viene svincolato dove tra le maggiori entrate di 3.000.000 euro abbiamo in parte corrente un contributo a carico del gestore della Convenzione Consip destinata a finanziare la gestione degli impianti di illuminazione, 2.670.000 euro che riguardano un confinanziamento regionale per 20.000 euro del progetto Città Sicura e il contributo di Fondazione Cariplo di 350.000 euro per la riqualificazione appunto dell'attuale anagrafe 2.300.000 euro la parte per la ristrutturazione della piscina olimpia di via Marzavoto il cui costo complessivo ammonta 4.500.000. Le maggiori spese sono 6.812.000 euro di cui 3.700.000 finanziate con la quota del fondo crediti di dubbio esigibilità cantonata nel risultato di amministrazione svincolata in occasione del rendiconto del 2023 per finanziare e liberare risorse correnti per integrare il fabbisogno della spesa di parte corrente in particolar modo utilizzeremo 70.000 euro come indagine ambientali, acustiche e di bonifica 2.100.000 euro per la manutenzione ordinaria di edifici pubblici, scolastici e per il SAP, i servizi abitativi pubblici 350.000 euro per la manutenzione del verde pubblico 120.000 euro i compensi dell'avvocatura degli anni progressi sulla base del rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori 400.000 euro le licenze software e gli investimenti sull'hardware all'interno dell'ente 500.000 euro per interventi su minori e sostegno alle disabilità e per quanto riguarda la manutenzione ordinaria stradale 90.000 euro sulla base di queste disposizioni che vanno a sbloccare 17.054.522 che sono l'avanzo di amministrazione che abbiamo deliberato il 7 di questo mese, il 7 di maggio del 2024, si richiede inoltre di deliberare al Consiglio Comunale di modificare anche il documento unico di programmazione, in particolare nella sezione del programma delle opere pubbliche che fa parte integrante della delibera del programma triennale degli acquisti e delle forniture dei servizi e io credo di aver sintetizzato il più possibile per consentire magari di dar subito avvio alla discussione e non ho altro da aggiungere. Grazie. Grazie a lei Sindaco. A questo punto adesso apro la discussione sulla prima delibera, quella della variazione appunto al bilancio di previsione, ricordo i tempi da regolamento 10 minuti per ogni consigliere più 10 minuti di raddoppio tempo per gruppo consigliare. Dichiaro aperta la discussione, attendo eventuali richieste di intervento. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Rompo il ghiaccio. Allora, noi ci troviamo qui questa sera per votare la variazione di bilancio, la seconda di quest'anno e visti i conti, visti anche gli indirizzi sui quali alcuni ci troviamo anche in accordo come ad esempio la quota di avanza accantonato per i rinnovi contrattuali. Però vorrei concentrare l'attenzione di tutti noi su il risvolto politico che è quello che poi tocca a noi in questa sede, in questo consiglio e in particolare cito questa volta il mio compagno di gruppo, il consigliere Cagliani, che spesso in questi interventi usava un refrain che dove ricordava, come voi continuate a sostenere da almeno in questa consigliatura, i conti siano in ordine, ma quello che noi invece arriva dalle segnalazioni dei cittadini non fa specchio, non dà riscontro rispetto alla situazione che voi dite. Se quindi colgo l'occasione di questa delibera per segnalare come pur essendo in presenza di una seconda variazione rimangano e pur dicendo che stanziate fondi ad esempio per le fragilità capita di incontrare persone che si trovano in una situazione di fragilità e pur riscontrano invece un peggioramento del loro stato dei servizi che ricevono. Vi rubo proprio pochi minuti per farvi tre esempi, uno in ambito diverso così da dare contezza di quello che vogliamo politicamente far rilevare rispetto alle carenze che noi andiamo a rilevare. In particolare sul tema della fragilità, le segnalazioni che ci sono arrivate denotano come ci sia un calo di prestazioni che sono offerte alle famiglie che si trovano in questa situazione, come ci sia una riduzione del personale medico a disposizione, come ci sia una difficoltà nel poter interloquire con il personale e con gli assistenti e questo pur in una condizione di grave fragilità e pur stando alle parole che ancora stasera ha detto il sindaco in un maggior stanziamento di fondi. Quindi il tema che vorrei evidenziare in questo modo è che forse politicamente non riuscite, scusate perché noi siamo all'opposizione, non riuscite ad andare a incontrare quelle fragilità di cui invece ci sarebbe bisogno di avere fondi e i particolari fondi che voi continuate a dire distanziare ma probabilmente non arrivano e quindi è un invito a capire dove sta il collo di bottiglia, dove sta sì che le persone più fragili della nostra comunità abbiano ulteriori difficoltà a ricevere quel tipo di assistenza, che probabilmente non è solo competenza comunale ma probabilmente anche competenza regionale, ma dato che ricevono comunicazioni anche dall'amministrazione penso che sia corretto che l'amministrazione si faccia il possibile per aiutare soprattutto chi nella nostra comunità è più in difficoltà, perché aiutare chi sta bene è molto più semplice. Quindi questo è il primo esempio, il primo invito di una persona che frequenza un CDT IPIS della nostra città che si è trovato in difficoltà per ricevere un'assistenza che noi chiameremmo del medico di famiglia, del medico di medicina generale per la propria figlia. L'altro esempio che cito, molto più leggero, ma che dà l'idea di quello che secondo noi è un po' la difficoltà politica di gestire un bilancio così importante come quello del Comune di Sesto è che ad esempio, pur in presenza di un avanzo di bilancio certificato, di avanzo libero di bilancio certificato, avendo approvato per di più il preventivo lo scorso dicembre tra i primi comuni come è stato da voi ricordato, ad esempio quello che noi non abbiamo, non capiamo è perché, dato che la nostra città è stata insinita del riconoscimento di città europea, per quale motivo, dello sport scusatemi, per quale motivo allora è stato scelto ad esempio per un per l'impianto sportivo comunale Pino Dordoni di scegliere l'intervento più economico che ha previsto solo il rattoppo della pista e non magari, visto che quel manto ha circa vent'anni, una riqualificazione completa visto che i fondi ci sono e anche magari non pretendiamo l'agibilità dell'intera struttura che avrebbe reso ancora più funzionale quella struttura, ma almeno rifare tutto il manto della pista che ricordiamo è stato fatto circa vent'anni fa come vent'anni prima era stato fatto sulle due piste e quindi, dato che continuate a sostenere che i conti sono in ordine, che avete una buona amministrazione, perché non valorizzare quelle strutture che voi stessi state gestendo e per cui ci viene riconosciuto anche una valorizzazione e chiudo infine su un ragionamento che abbiamo già più volte posto sul tema del personale. I dati di bilancio e qui in variazione pensavamo potesse esserci, ma c'è solamente l'accantonamento che è sempre una buona cosa, il Comune è nella condizione di poter assumere più personale, i dati che ha presentato il Sindaco nel precedente Consiglio Comunale dicono che ci sarà una diminuzione però del personale e noi riscontriamo che questa diminuzione del personale a fronte delle assunzioni che avete previsto quest'anno non va a cogliere quei punti delicati, come citavo ad esempio nel primo esempio, come ci potrei citare in altri servizi della città, ad esempio il controllo delle pulizie o della raccolta dei rifiuti, visto che nel Consiglio precedente abbiamo avuto riscontrato che la percentuale di raccolta dell'umido è diminuita e quindi abbiamo potuto applicare uno sconto minore ai cittadini. Quindi l'invito è, visto che continuate a sostenere che i conti siano in ordine, di preoccuparvi anche della città nel suo quotidiano per far sì che quel quotidiano sia migliore. Grazie. Grazie a lei, consigliere Maderloni. Ci sono altri interventi in aula da parte di qualche consigliere? Prego, consigliere Pagani, lei ha la parola. Sì, grazie Presidente. Allora, sarò anch'io veloce per le stesse motivazioni naturalmente del Sindaco. Magari se sforo, Presidente, di qualche minuto dopo questo dato che ci sarà il doppio rispetto ai dieci minuti. Allora, questa è una variazione di bilancio molto corposa, direi di sì. Ci sono alcuni aspetti che vorrei sottolineare che ritengo rilevanti, alcuni in ordine anche positivo, cioè trovo che sia finalmente, vorrei sottolineare, importante che si proceda con la riqualificazione di uno spazio come spazio arte, che è stato per tanto tempo uno dei cuori, diciamo così, artistici, nel senso più largo della nostra città e che naturalmente negli ultimi anni, insomma, ha visto uno stato prevalentemente, insomma, di, io direi, di abbandono, insomma, o comunque, diciamo così, di non valorizzazione. Quindi il fatto che venga investita, insomma, buona parte arriva dalla fondazione Caricolo, però c'è un investimento anche da parte dell'amministrazione comunale di 150 mila euro per la riqualificazione di spazio arte. Io credo che sia un'occasione importante per la città, perché si rimovimenti cultura all'interno della città, che a mio avviso è uno degli aspetti più critici, perché oggettivamente sono molte e poche le cose che dal punto di vista culturale succedono da diversi anni all'interno di questa città. Volevo sottolineare una cosa anche riguardo alla piscina Marzabotto, riguardo al funzionamento della, scusate, la riqualificazione della piscina, nel senso che noi investiamo oltre 2 milioni su un, se ho capito bene il sindaco, su una ristrutturazione con oltre 2 milioni e 300 segnato, su una ristrutturazione complessiva di 4 milioni, si, suggerisce il sindaco, cioè negli atti, su una ristrutturazione di 4 milioni e mezzo. Ecco, diciamo che sicuramente che ci sia un investimento, era stato un impegno preso dall'amministrazione comunale, direi anche sollecitato insomma da parte di tutti, soprattutto io credo anche da noi consiglieri di opposizione, rispetto a come era andata insomma la questione, quindi ad un project financing che si era rivelato, come dire, inadeguato. Ecco, adesso noi riqualifichiamo una piscina, quindi insomma portiamo a casa una cosa nuova, la domanda che mi viene da fare è per restituirla nuovamente ad un privato. Questo è un buon quesito, pensando a come sono andate le cose dal mio punto di vista. È chiaro che non è che mi aspetto rispetto alla discussione di oggi una risposta, quello che mi aspetto è che sicuramente ci sia una riflessione più ampia su come funzionano questi progetti di finanziamento, io uso le parole italiane, sono un po' boomer in tante cose, compreso questa, perché per carità sono soldi dei cittadini, anche questo, che comunque è un investimento, come dire, debba fruttare sotto tanti punti di vista. Allora, non è che necessariamente una piscina o uno spazio debba essere pubblico, ma che ci sia una restituzione in termini di fruibilità dal punto di vista della disponibilità e dei costi nei confronti dei cittadini, credo che questo sia importante, cosa che non è avvenuta per quanto riguarda il Lido. Abbiamo, come dire, ci siamo battuti, perlomeno io c'ero, insomma, ci siamo battuti del precedente mandato perché ci fossero costi e accessi diversi per i sestesi, anche per non solo i cittadini, ma anche per gli studenti sestesi. E quindi, insomma, visto che ci stiamo investendo tanto, una riflessione su questo mi piacerebbe che si facesse. Mi collego per ultimo, così vado a chiudere, rispetto ad alcune riflessioni che faceva il consigliere Maderloni. Allora, guardando non solo la variazione di bilancio, ma guardando il bilancio dal nostro punto di vista, entrando quello della lista civica città in comune di cui io faccio parte, quello che noi, come dire, appodiamo è che sostanzialmente per le spese sociali si utilizzano soltanto quote di avanzo vincolato, perché quelle sono vincolato, quindi o li spendi lì o non lo puoi spendere da nessun'altra parte. Ecco, questo che è uno degli elementi che abbiamo sempre sottolineato, che va a ricondursi anche un po' alle cose che ha detto il consigliere Maderloni, non sono un, come dire, un investimento dal nostro punto di vista, no? Perché forse l'amministrazione, quando è più forte, come è stato detto e ribadito più volte, dal punto di vista economico, potrebbe anche fare di più. Sulla questione poi dei servizi che vengono erogati, in particolar modo alle persone con fragilità, io segnalo a mia volta, perché ricevo delle segnalazioni, quindi però vorrei che fosse, come dire, che questa segnalazione fosse presa in considerazione e che ci fosse attenzione su questo. Io segnalo che molte famiglie mi comunicano che a loro viene richiesto di pagare il trasporto casa-famiglia e quindi, scusate, casa-scuola o famiglia-scuola e viceversa, che in realtà non va pagato perché è un'assistenza di cui l'amministrazione si deve far carico, in quanto diritto inannienabile, ci sono sentenze, l'ultima è del 2021, non vi tedio, ma sicuramente il trasporto, diciamo, scolastico per un disabile non è un servizio socio-assistenziale. Allora, se il disabile, la persona disabile, deve essere accompagnata da casa a scuola e da scuola a casa, non deve pagare. Mi segnalano che spesso viene richiesto il pagamento di questo trasporto. Allora, se ci sono delle incomprensioni, perché non è la prima volta che lo segnalo, ma evidentemente le segnalazioni, come dire, non creano un circolo virtuoso, ma continuano ad essere un ping-pong, di prestare attenzione rispetto a questa cosa. Grazie. Grazie a lei, Presidente Pagani. Altri interventi in aula? Presidente Gatti, ha la parola. Grazie, Presidente. Buonasera al Consiglio, agli assessori e a tutti i cittadini presenti che ci seguono da casa. Mi permetto di iniziare con una battuta. L'anno scorso, noi a più o meno in questi giorni, metà maggio, abbiamo approvato il bilancio preventivo. Potremmo dire che stiamo approvando il bilancio preventivo anche a maggio di quest'anno, perché una variazione di 17 milioni è quasi una finanziaria per le dimensioni del nostro bilancio. È una disponibilità di agire su tutte le voci di spesa, su tutto ciò che si vuole fare in questa città, credo senza precedenti, come variazione di bilancio. Il che, qualche dubbio su come quest'anno si sia deciso da parte dell'amministrazione di gestire il percorso del bilancio, a me continuo a lasciarlo. Come citava prima il consigliere Aderloni, quel preventivo approvato forse presto, forse troppo presto, ha lasciato un bilancio che in realtà ha molti buchi, ha molte cose che voi state riempendo, non buchi di bilancio, molti mancanze, che voi state riempendo, falle, mi suggeriscono falle, delle disattenzioni. Per favore, ordine in aula, per favore. Buchi di attenzione. Molte falle che voi probabilmente state cercando di sanare in questi mesi, con queste variazioni che sono molto cospicue, se non sbaglio il totale si aggira attorno ai 21 milioni, è venuto fuori in commissione, 21 milioni è il 25% più o meno delle entrate del nostro comune, quindi stiamo parlando del fatto che in questi quattro mesi si è rimesso mano al bilancio e alle voci in maniera molto pesante. È una cosa negativa non necessariamente, tuttavia mi aspetterei da parte del sindaco che o in commissione o in consiglio non si limitasse a dire abbiamo preso 300 mila euro, li abbiamo messi di qui, 500 mila euro li abbiamo messi di qui. Se si fa una variazione che è 17 milioni, che prevede delle scelte, che prevede di allocare dei fondi straordinari e dei fondi ordinari, quindi dei fondi che voi sapete già che ci sarebbe stato bisogno di avere durante quest'anno o sarebbero venuti a mancare dei servizi, degli acquisti, dei materiali, eccetera, eccetera, forse utilizzare qualche minuto in più dell'intervento di presentazione per spiegare qual è la razza politica, quali sono gli obiettivi politici, quali sono le decisioni, qual è la vostra visione di città, bisognerebbe farla. Anche perché noi non siamo qui a mettere in discussione la contabilità del bilancio, quello è un lavoro che fanno i tecnici, che fanno sicuramente benissimo e che non richiede che noi entriamo nei particolari, siamo qui a parlare e a discutere di scelte. Ecco, è un discorso da cui voi vi sottraete secondo me con un po' troppa facilità. Adesso noi potremmo qui stare ad analizzare che alcuni dei fondi sono per dei servizi tipo, faceva riferimento prima la consiglia Pagani al finanziamento che fate per la riqualificazione della piscina, che non è che ci siano piombati tra capo e collo negli ultimi 15 giorni e andiamo in variazione di bilancio. È frutto di una scelta politica, quella di affidare la riqualificazione al privato negli anni scorsi, che si è rivelata un fallimento. Siamo dovuti in quest'aula andare al voto per riprenderci in carico una delle due piscine che erano state affidate e oggi voi date due milioni e mezzo. Quindi ci sono delle complessità e io mi aspetterei da un sindaco, da un'amministrazione che utilizzi, se non in commissione e non è stato fatto, quantomeno in consiglio il suo tempo non solo a elencare dei numeri che sono facilmente trovabili nella delibera o in quanto ci viene dato nel parere dei revisori, ma nello spiegare le motivazioni delle scelte, anche perché ascoltando anche solo questa sera che 1,5 milioni sono stati destinati alla manutenzione delle strade, bene, benissimo, ci mancherebbe, però ordinaria, quindi delle spese che sono assolutamente in quello che è l'idea che si poteva avere settimane, mesi fa quando è stato fatto il preventivo di quale sarebbe stata la spesa durante tutto l'anno, non sono spese straordinarie o spese che sono improvvise, sono fondi che oggi voi mettete e di cui probabilmente ci sarebbe stato bisogno comunque, indipendentemente da quello che è successo nelle ultime settimane, indipendentemente da quale sarebbe stato l'avanzo che voi avete certificato solo nell'ultimo consiglio comunale. E quindi un pochino più di attenzione nel definire le scelte, nel definire la visione e anche, e lo dico con il massimo rispetto di tutti coloro che oggi sono qui ad ascoltare, sicuramente molti sono interessati alla terza delibera che sicuramente avrà un dibattito interessante, acceso, che porterà posizioni diverse magari, però qui stiamo parlando di una variazione di bilancio di 17 milioni, non possiamo fare finta che sia una cosa da poco e trattarla in fretta, trattarla con velocità senza metterci la giusta attenzione, perché io credo che il nostro ruolo ci imponga di avere, quando si parla di spostare 17 milioni sul bilancio, di dire qual è la nostra visione, qual è la vostra visione, di che cosa state facendo e non semplicemente di fare l'elenco dei numeri. Grazie. Grazie a lei. Consiglia Appinia, nella parola. Grazie Presidente. Io trovo sempre molto stimolante, diciamo così, ascoltare i vostri interventi, perché mi piacerebbe poter rispondere, avere il tempo di poter rispondere punto per punto, ma non vorrei far perdere tempo alle persone che sono qua per la prossima delibera. L'unica cosa che ci tengo intanto è, guardate che il bilancio ha delle date precise, altrimenti si va in esercizio provvisorio. Andare in esercizio provvisorio significa bloccare l'ente, quindi non sono delle scelte che noi facciamo di portare il bilancio alla fine dell'anno, anzi, cara grazia, che ci siamo riusciti quest'anno, dopo sei anni, sette, finalmente, ma hanno delle scadenze, quindi non è che ce lo siamo inventati noi, perché non volevamo, volevamo fare poi una variazione di bilancio di 17 milioni, quindi che cos'è che c'è da vedere che mi manca sull'indirizzo politico? Abbiamo parlato, sentito parlare di manutenzione delle strade, che è normale, è routine, e se è così, perché non veniva fatta una volta? Perché non venivano fatti, non esisteva il bando del verde? Perché non venivano fatte una marea di manutenzioni sugli immobili che stiamo facendo noi soltanto oggi? Cara grazia, perché siamo riusciti a trovare i soldi del PNRR e siamo riusciti a risparmiare 8 milioni, più o meno, a spanne. Quindi, c'è una motivazione dietro a ogni numero, quindi, sentire il farsi la morale per cose che non comprendo, sinceramente non riesco a comprendere dove vogliate arrivare, perché è lì da vedere, c'era la città che cadeva a pezzi, stiamo facendo un pezzo alla volta, come penso parebbe qualunque buon padre di famiglia, un pezzo alla volta con tutti gli sforzi possibili, arriviamo a fine anno, tiriamo una bella riga, oh, ci sono 8 milioni, bene, come li impieghiamo? è lì da vedere, quindi non è che il sindaco sia divertito a fare l'elenco della spesa e fare l'elenco dei numeri, tanto perché hanno un significato quei numeri, il mettere dei soldi su una posta piuttosto che su un'altra, metterli sul PEBA piuttosto che metterli, che ne so, sul taglio delle acace di Marzabotto, cioè, ha un significato, quindi non capisco, ogni volta siamo lì sempre a dover spiegare qual è l'indirizzo politico e quali sono le scelte, le scelte sono quelle che vedete, cercare di arrivare ovunque, secondo quelle che sono le priorità, perché poi piacerebbe a tutti noi, tutti qui dentro, poter stanziare milioni e milioni di euro per i disabili, ci piacerebbe e come avere i soldi per poterlo fare, purtroppo non c'erano prima, non ci sono oggi, noi li abbiamo aumentati questi fondi, ma non vi basta mai, non capite neanche lo sforzo, io vi faccio i complimenti, veramente, comunque terminato, grazie. Grazie a te, consigliere Apini, altri interventi in aula? Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere Cagliani, hai la parola? Sì, grazie, signor Presidente. Beh, io mi aspettavo interventi da parte dei consiglieri di maggioranza, perché a seconda di quello che dicevano su questa delibera, magari maturavo l'intenzione di votare a favore, non si sa mai, visto visto che visto che il sindaco in commissione faccio il verso a quello che ha detto il consigliere Gatti, ha letto la delibera e modestia parte riesco anche a leggerla senza bisogno che me lo me lo dica il sindaco, come lo legga il sindaco, quello che diceva il consigliere Gatti era che questi soldi qui vanno a finire su determinati progetti, su determinati interventi, a parte l'intervento delle strade, il verde, i rifiuti, che è una cosa risaputa ed è chiarissimo dove vanno a finire i soldi. Io e noi sinistra abbiamo sempre un occhio particolare a un determinato settore che riguarda il settore sociale, il settore del disagio a livello cittadino, il settore educativo e allora quando quando si apre un dibattito su una variazione di bilancio di 17 milioni me lo aspettavo un intervento da parte dei consiglieri di maggioranza perché magari maturavo una posizione diversa, poi magari il consigliere Pogliaghi dopo questo intervento straccerà un'altra volta il suo intervento perché dopo quello che sentirà dire da me parlerà a braccio parlerà però volevo evitare che lo stracciasse con l'intervento volevo sentirlo prima e ad esempio faccio proprio a mo' di esempio ma solo un paio di esempi quando si parla dei 2 milioni e 600 erotti nella delibera che destinati a specifiche attività ci sono lascio perdere gli importi più piccoli diciamo però ci sono ben 2 milioni e 100 mila euro sul fondo nazionale lotta alla povertà non so se in commissione qualcuno avesse speso due parole in più su che progetto su che cosa in campo su questa lotta alla povertà che cosa stiamo facendo in città per la lotta alla povertà che vedo che è abbastanza preoccupante o diffusa in città avrei magari apprezzato apprezzato meglio la delibera ci sono 13 mila euro fondo nazionale delle politiche sociali che vabbè fa ridere 13 mila euro però è un fondo nazionale probabilmente diviso 8 comuni a noi è toccato questi 13 mila euro ecco sono queste le informazioni che in commissione perché se no uno legge la delibera poi si può fare solo perché si può fare una domanda dicendo ma perché c'è questo perché c'è quello piacerebbe conoscere i progetti e magari condividerli o partecipare e partecipare dando un proprio un proprio contributo così non è mai e quindi arriviamo in consiglio comunale con scarse informazioni da questo punto di vista e la variazione di bilancio di 17 milioni è una variazione importante ripeto era un breve intervento perché non ho avuto modo di sentire il parere della maggioranza una sola cosa sindaco ultimamente sui sui giornali in questi ultimi giorni si legge spesso che il governo taglierà i comuni e probabilmente taglierà sul PNR usa il PNR come un proprio banco ma lo farà dopo le elezioni europee giustamente e non sto qui a dire quale può essere il motivo però parlano in questi termini non è signor Sindaco che noi rischiamo di giocarci il nuovo rinascimento sestese o il piano Marshall decantato da lei il nuovo rinascimento è dal sessore alla Miranda il piano Marshall e la sua idea ci giochiamo qualcosa di questo fantomatico piano Marshall grazie grazie a lei consigliere Cagliani ha stimolato l'intervento del consigliere Vincelli allora la parola grazie presidente buonasera all'aula consigliare buonasera ai cittadini che sono intervenuti a quelli che ci seguono da da casa allora innanzitutto consigliere Cagliani è intervenuto prima il presidente della commissione del bilancio quindi direi una massima autorità per quanto riguarda la commissione del bilancio quindi direi che secondo me ci sono sempre delle confusioni quando voi parlate di bilancio d'altronde lei dice potevo stare anche a casa perché tanto sapevo leggere bene questo bilancio ecco io mi sarei preoccupato all'epoca in cui amministravate voi di leggere meglio i bilanci perché visto quello che è successo siamo ricorsi a un predissesto un predissesto che abbiamo risanato quindi quelle sono le falle quelle sì che sono chiaramente le falle ritorniamo dietro un attimo sul discorso del bilancio voi continuate a parlare doppia variazione tripla quadrupla no scusate tecnicamente tecnicamente così giustamente diamo l'interpretazione giusta di quello che è il bilancio noi abbiamo fatto una deliberazione di consiglio visto che avete letto sia la proposta di delibera sia anche il parere dei revisioni dei conti che in data 18-12-2023 esecutiva i sensi di legge è stato approvato il DUP per quanto riguarda il periodo 2024-2026 e contestualmente il bilancio di previsione 2024-2026 l'abbiamo fatto proprio in dicembre 2023 in modo tale che noi partissimo dal primo gennaio per poter fare operatività forse la parola operatività a qualcuno magari stona l'operatività di un'amministrazione vuol dire che essere in grado di poter chiaramente portare avanti una gestione oculata su quello che sono i programmi quindi il DUP e quindi è stata fatta e solo dopo il 7 maggio 2024 cioè nella gestione esercizio 2023 un'approvazione della delibera si possono chiaramente si può operare all'interno dell'amministrazione per poter decidere che cosa fare quindi noi qui stasera la variazione proprio tecnicamente è una cosa tecnica io capisco che per voi è molto difficile capire questa cosa poi si possono comunque criticare essere in discussione le scelte politiche ma sono le nostre scelte politiche che vadono vanno chiaramente incontro a tutta la cittadinanza la maggioranza della cittadinanza proprio perché ci sono delle priorità priorità che all'epoca chiaramente della vostra gestione purtroppo chiaramente non c'era perché giustamente il verde uno dei esempi tipici non c'era chiaramente non c'è stato un bando non c'è stato chiaramente un progetto mentre noi già effettivamente da diversi anni abbiamo attuato un progetto anche del del verde e quindi poi ci ritroviamo su quello che può essere i fondi liberi i fondi destinati a spese di investimento i fondi vincolati i fondi accantonati quindi e dal 7 maggio nel frattempo che cosa fa l'amministrazione dal primo gennaio fino al 7 maggio e oltre chiede a tutti i settori quali sono le priorità quali sono le esigenze dei settori vengono messe insieme quindi questo tecnicamente questa l'operazione che viene fatta per poi decidere a livello di giunta a livello di maggioranza perché la maggioranza porta questa delibera e quindi è d'accordo già non ha bisogno di espletare se non per i cittadini che magari ci vogliono ascoltare ma voi essendo consiglieri comunali chissà perché la commissione è durata neanche 10 minuti vuol dire che non avevate niente da dire e adesso vi lamentate perché non avevate domande da fare ragazzi questo è secondo me forse sarebbe opportuno una riflessione da parte di tutta la minoranza per questo discorso piscina Olimpia io penso che non so ogni tanto mi chiedo voi dove eravate all'epoca della pandemia forse non vi siete resi conto cosa è successo nel settore in particolare nel settore chiaramente edilizio nel settore edilizio chi è riuscito ad andare avanti ha avuto possibilità comunque nel in questo in questo periodo perché usava chiaramente proprio denaro molte aziende purtroppo sono fallite nelle conseguenze ci sono anche adesso non solo la pandemia ma prima della guerra prima della guerra Ucraina Russia c'è stato un aumento di quello che effettivamente è sia il petrolio e sia le energie quindi la crisi era già chiaramente in atto quindi con la revisione di quelli che sono stati i project finance da parte chiaramente dello Stato su alcune situazioni di project finance non hanno ritenuto effettivamente di fare l'aggiornamento dei costi ecco perché siamo arrivati al discorso della piscina olimpia la quale effettivamente non è un fallimento scusate non è un fallimento siamo qua ci stiamo mettendo dei soldi e io penso che la gestione che verrà portata avanti da un discorso di un bando sia quella di farlo chiaramente gestire da chi sa gestire il pubblico mette a disposizione quello che è la struttura cioè il nulla in questo momento ci aggiunge quello che effettivamente sono i 2 milioni e 300 mila di avanzo che è avanzo del 2022 per poter portare avanti un progetto per la città quindi non vedo qual è il fallimento a meno che i consiglieri di minoranza vogliono gestire loro la piscina quando ci sarà il bando fate fate una richiesta no loro l'hanno fatto ma l'hanno fatto prima sinceramente su tre piscine abbiamo trovato tre piscine chiaramente in disastro cioè tutte e tre chiaramente chiuse oggi invece abbiamo sicuramente anche per quello che chiamiamo città europea scusate a me dispiace cioè nel senso che il discorso del Gordoni è sicuramente un ricordo a cui tutti noi siamo un attimo legati però poi dobbiamo anche fare conto con quello che sono veramente le richieste con quello che sono chiaramente le offerte all'interno di uno sport di questo genere nonostante c'è stato un aiuto un supporto da parte delle delle Olimpiadi sul discorso dell'atletica ben vengano però io non ho mai visto da parte vostra un progetto sul Dordoni ma io non ho visto mai da parte vostra nessun progetto scusate l'amministrazione precedente l'amministrazione precedente non faceva altro che erogare determinati soldi a quella struttura ma scusate allora era quella struttura che doveva comunque da vent'anni come si dice poter fare la manutenzione ordinaria o mi sbaglio eh no non mi sbaglio non mi sbaglio quindi su queste cose voi dovete fare una riflessione di metodo e di intendimento ciò che io qui sento mai solo questioni di strumentalizzazione grazie grazie a lei consigliere Vincelli altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula prego grazie giusto due parole perché direi che per questa sera la lezione tecnica sul bilancio ce l'ha già fatta il consigliere Vincelli spiegando tutti i passaggi e eh dico quindi solo due riflessioni diciamo che commentano la maggior parte dei vostri interventi che sono susseguiti approvare variazioni vuol dire dare attuazione alle politiche che abbiamo impostato meno male che ci sono le variazioni di bilancio non vuol dire avere cannato il preventivo vuol dire dare attuazione alla spesa e alle politiche questo secondo me è il dato primario che secondo me va ragionato in una delibera di questo tipo dopodiché ma giusto per precisare qua devo mettere gli occhiali perché devo rileggere la delibera che ho letto anch'io sono stato in grado eh i due milioni e sei e fischia diciamo di avanzo vincolato non è che è stato solo relegato al Fondo Nazionale per la lotta della povertà detto che si tratta di avanzo vincolato perché sono fondi che derivano da Stato o da Regione ma ha trattato tutta una serie di altre cose però citando banalmente il Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale dentro qua abbiamo circa centomila euro dati agli oratori eh per le persone più emarginate per esempio però dentro i due milioni e sei c'è dentro anche c'è dentro anche per esempio il progetto Sesto Insieme è scritto una delibere eh Fondo Nazionale per Politiche Sociali eh piuttosto che Fondo Morosità Incolpevoli di cui abbiamo parlato una delle sere in questo consiglio eh impegnandoci il contributo a favore dei servizi sociali dei comuni per l'accoglienza dei profili ucraini piuttosto che Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Distruzione 06 anni eccetera eccetera quindi c'è dentro tutto una serie di cose evidentemente che danno attuazione danno attuazione a eh questa spesa importante rilevante per un comune come il nostro ovviamente e che declinano una sensibilità sociale che non è solo della parte di minoranza è per tutti perché siamo qua tutti quanti a lavorare per i nostri cittadini grazie grazie a lei signor Pogliaghi ci sono altri interventi in aula a questo punto chiudo la discussione su questa prima proposta di delibera chiedo al sindaco se vuole replicare sì grazie presidente no giusto eh alcune alcuni chiarimenti su affermazioni che sono state fatte che ci tenevo rimanessero a verbale escluse quelle che sono le motivazioni che alcuni consiglieri in maggioranza sono state apportate in maniera corretta questa sera allora secondo me molti consiglieri hanno confuso la delibera o le delibere no diciamo la delibera allora questa è una variazione al bilancio con l'applicazione dell'avanzo apportato con il rendiconto del 7 di maggio il rendiconto porta un avanzo di amministrazione di 54 milioni di cui ci sono fondi vincolati accantonati e destinati a investimento quindi per un totale di 46 milioni circa 45 milioni e 7 di fondi vincolati che vengono riscritti e riportati sul bilancio di del 2024 25 26 perché è sul triennio e l'avanzo libero che abbiamo accertato nel 7 di maggio è di 8 milioni e 700 mila euro quindi parlare di fondo nazionale quella fa parte di una variazione di bilancio che trascrive dopodiché possiamo entrare nel merito dello specifico del progetto però questa è una delibera di bilancio e quella dove eravamo eravamo una commissione tecnica di bilancio dove ovviamente lei non era presente però i suoi colleghi del partito erano presenti potevano chiaramente c'era l'assessore ah no c'era 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 l'assessore c'erano anche gli uffici tecnici potevano tranquillamente fornire qualsiasi risposta così come è stato detto c'è un peggioramento dei servizi sulla fragilità nonostante dal 2017 io faccio sempre l'esempio dal 2017 perché inizio a fare il sindaco nel 2017 al 2024 ci sia stato un aumento in parte corrente molto molto consistente per quanto riguarda i servizi e la fragilità se però mi si parla di calo del personale medico capite che io posso gestire la questione territoriale da sindaco stiamo parlando di altri tipi di politiche anche se raccolgo la sfida di voler andare a discutere anche di temi che sono al di fuori delle competenze di un sindaco e giustamente stavo vedendo un documento di ANCI e l'associazione nazionale dei comuni italiani dove negli ultimi quattordici anni sono stati chiusi centoventicinque ospedali in tutta Italia abbiamo perso più di ventiduemila posti letto e i governi che in questi quattordici anni si sono susseguiti hanno tagliato trentasette miliardi di euro alla sanità chi governava in questi ultimi quattordici anni Monti Letta Renzi Gentiloni e Draghi quindi questo l'inversione di tendenza c'è stato nell'ultimo nell'ultima finanziaria dove finalmente c'è stato un piccolo aumento rispetto al passato che comunque ha dato un segnale di inversione di tendenza e una volontà politica di investire sulla sanità sono d'accordo gli effetti poi se vogliamo diciamo che è facile far politica creando un problema e scaricando agli altri l'incapacità di saperlo gestire ma è un po' è tutta la delibera questo perché quando sento parlare del mancato investimento nel centro sportivo d'Ordoni ci credo chi gestiva il centro sportivo fino al 2019 percepiva oltre centomila euro per la gestione del centro poteva fare un investimento centomila euro all'anno su dieci anni sono quasi un milione considerando che anche le utenze erano accollate a tutti i cittadini erano a carico dell'ente così come la piscina qualcuno mi ha detto ma abbiamo il privato ha gestito il lido estivo in maniera un po' troppo basandosi sul profitto innanzitutto noi non abbiamo ereditato una piscina all'ido estivo io mi ricordo c'era una struttura che sembrava una vasca con degli alberi in mezzo cresciuti tutto distrutto due o tre macchine abbandonate abbiamo trovato una trentina di persone senza permesso di soggiorno che dormivano all'interno di impianti elettrici completamente cioè non era non abbiamo ereditato una piscina era chiusa da diversi anni con le conseguenze della mancata manutenzione così come l'altra piscina della San Denis chiusa dopo una settimana che sono sindaco dall'ASL dall'ATS perché è inagibile proprio perché mancavano le norme igieniche sanitarie con un procedimento penale anche nei confronti del dirigente che aveva firmato la certificazione che invece l'anno precedente era a norma quindi non abbiamo ereditato una situazione a norma una situazione ma non non ci lamentiamo certo è che fa capire una cosa che il tutto fatto dal comune porta a queste conseguenze porta all'inagibilità alla mancanza di interventi di manutenzione alla ristrutturazione e capite che quando mancano i soldi ci sono due soluzioni o si va a casa o si falsificano i conti e voi avete diciamo che siete riusciti in un'opera da maestri perché avete fatto entrambi che no l'ha detto la corte dei conti l'irregolarità è una falsificazione per favore ordine in aula per favore ordine in aula crediti di dubbi e esigibilità quindi siete riusciti in un'opera da maestri nel far tutte e due le cose oggi ci dite il coinvolgimento del privato non va bene innanzitutto c'è un contributo pubblico ci sono più della metà del contributo dell'intervento sarà fatto dal pubblico quindi rispetto alla San Denis o rispetto alla Lido Estivo ci saranno sicuramente delle politiche sociali da portare all'interno della 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 piscina Carmen Longo della Marzabotto altro elemento che è stato riscontrato il bilancio i tempi sul sul bilancio però la legge è molto chiara oggi noi stiamo a svincolare risorse dell'avanzo libero proprio perché quando governava il centro-sinistra a sesto non c'erano le risorse per le manutenzioni le manutenzioni delle scuole le manutenzioni delle palestre le manutenzioni delle piscine delle strade del verde e quant'altro qual è a livello contabile la tecnica per inserire risorse ulteriori rispetto al bilancio preventivo non in sostituzioni ulteriori rispetto al bilancio preventivo è quello di generare un avanzo che poi l'anno successivo viene utilizzato per le politiche che possono essere politiche di investimenti come in questo caso stiamo andando a intervenire sulle case popolari sugli ascensori delle scuole sugli impianti sportivi sulle strutture del territorio sugli accordi quadro per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie straordinarie sulle strade sui marciapiedi sulle barriere architettoniche certo fino allo scorso anno le risorse che per il primo anno dopo sei anni di mandato eravamo riusciti a destinare alla città perché gli anni precedenti li abbiamo dovuti destinare gli avanzi di bilancio a copertura dei 28 milioni di buco di bilancio e dei debiti fuori bilancio della metropolitana che ci avete lasciati l'anno scorso ahimè è scoppiata gli effetti della guerra in Ucraina hanno generato sul PNRR degli aumenti consistenti di costi che sono stati brutalmente scaricati sui comuni se avessero messo la differenza e noi politicamente abbiamo scelto che lo scorso anno quasi 4 milioni di avanzo libero anziché destinarlo direttamente su accordi quadro o quant'altro li abbiamo destinati a copertura degli aumenti dei fondi dei progetti dei costi dei progetti del PNRR dovuti all'incremento dei piani finanziari proprio per evitare di perderli dopodiché la partita che ci sarà a livello nazionale sarà una partita abbastanza interessante ma lì anche con l'associazione nazionale dei comuni ci stiamo organizzando credo che i comuni che subiranno maggiori tagli deduco saranno quei comuni che ricevono sussidi o finanziamenti al di là di quello che è il bilancio in parte corrente credo che si tratti di città metropolitane o di grosse centri o comuni capoluogo non certo il comune di Sesto San Giovanni che comunque ha un bilancio virtuoso e la logica del legislatore è premiare chi ha un bilancio virtuoso anche perché se no sarebbe oggettivamente un elemento diverso rispetto alle capacità di un ente perché se l'ente è bravo gestisce bene i conti ed è virtuoso è giusto che sia premiato non l'opposto quindi da questo punto di vista sapete che da tre anni a questa parte il comune di Sesto è ente virtuoso deduco che non saremo toccati da eventuali tagli del dovute alle risorse del PNRR quindi su questo elemento si sta lavorando con la commissione sia bilancio che anche con l'associazione nazionale dei comuni italiani quindi io credo che l'elemento importante di questa delibera è capire come si sta andando a sviluppare sul nostro territorio sul 2024 tutta una serie di manutenzioni di interventi strutturali che nel passato non sono stati fatti e io ricordo che Sesto ha un patrimonio immobiliare importante dal punto di vista delle case dal punto di vista delle scuole dal punto di vista delle palestre gestire un bilancio significa stanziare anche tante risorse per la manutenzione perché se no poi ci troviamo come nel 2017 che ci ritroviamo a dover chiudere piscine scuole palestre perché inagibili così come anche si parlava di spazio arte spazio arte non è diventato inagibile oggi spazio arte è inagibile per un certo numero di utenti credo che siano 200 250 sulla base di una valutazione dei vigili del fuoco ma lo era già nel 2017 non è che lo è diventato strada facendo perché perché non sono stati fatti negli anni interventi di manutenzione allora ereditare una città tecnicamente dal punto di vista contabile fallita dal punto di vista degli interventi di manutenzione senza risorse capite che ci vuole anche il tempo per pagare i debiti e per sistemare poi il bilancio in maniera tale che tutto il patrimonio che noi disponiamo venga manutenuto in maniera corretta noi oggi dopo sette anni è il primo anno che riusciamo finalmente a destinare al territorio di sesto le risorse che sono in avanzo libero e avanzo accantonato perché i primi anni fino al quinto anno li abbiamo destinati al pagamento dei debiti che ci sono stati lasciati il sesto anno per gli aumenti dei costi dei materiali legati agli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza quest'anno finalmente li stanziamo per il nostro territorio per gli investimenti per le fragilità e per il miglioramento che già abbiamo avviato in questi anni di quelli che sono i servizi ai nostri cittadini grazie grazie sindaco la sassuola Bizzocco voleva dare una risposta in merito alla consiglia Penso Pagani prego grazie presidente ci tenevo a fare a dare un chiarimento sul trasporto disabili minori nel comune di sesto San Giovanni non è a pagamento a carico della famiglia quindi non riesco bene a capire a comprendere quale sia il caso di specie e se ci fosse un caso di specie va assolutamente come dire contattato il servizio sul punto che segue i disabili le persone disabili sia adulte che i minori in modo tale da comprendere quale sia il disguido è vero invece che abbiamo un nuovo regolamento nel 2023 che va finalmente è andato a ricostruire quello che è tutto le tariffe dei servizi sia per gli anziani che per i disabili all'interno di queste tariffe esistono tariffe per il trasporto a chilometraggio che però sono indicazioni specifiche sull'anziano e sul disabile adulto grazie ah sì esatto posso dare anche il dato appunto degli assistenti sociali nel 2024 il comune di Sesto avrà una dotazione di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti abbiamo iniziato il nostro mandato nel 2017 che a fatica nel 2018 quando comunque io sono stata nominata dal sindaco Roberto Di Stefano a fatica riuscivamo ad arrivare ad un assistente ogni 6.000 abitanti aggiungo anche il dato dei medici di medicina generale che ho recuperato quello di febbraio 2024 sul comune di Sesto San Giovanni abbiamo 1.400 e virgola posizioni libere per i medici di medicina generale e circa 200 sui pediatri di base al netto di 500 cittadini che non hanno ancora fatto la scelta del medico grazie grazie assessore passiamo alla dichiarazione di voto ricordo due minuti per ogni gruppo città in comune consigliera Pagani sì grazie presidente allora in due minuti ripercorrendo velocemente le cose o meglio una battuta che ha fatto il sindaco non è facile creare problemi e poi lasciare che gli altri li risolvino mi viene da dire che il signor sindaco è anche facile dare risposte delle domande rispondendo con cose che c'entrano molto poco la questione legata a spazio alto non è una questione dello spazio fruibile cioè del fatto che se lo paghiamo ci possiamo entrare a svolgere un'iniziativa ma un luogo di produzione artistica questo era quello che è stato e questo era quello che sottolineavo per quanto riguarda l'Ido allora non è che mettiamo in discussione o meglio non ho messo sicuramente in discussione io la concertazione tra pubblico e privato quello che ho sottolineato è che in quell'occasione né il sindaco né la giunta né i consiglieri comunali di maggioranza si sono fatti garanti sotto la richiesta della minoranza di tariffe agevolate per i cittadini per le famiglie e per gli studenti della nostra città e questo rimane agli atti oltre che una concretezza nei fatti grazie il voto è contrario per favore ordine in aula reinventiamo sesto consigliere amdi grazie presidente anche io vorrei spendere questi pochi minuti un attimino per riassumere come al solito abbiamo una visione differente della città in cui viviamo perché adesso oltre ad accusare il centro-sinistra di aver lasciato una città ridotta in cenere siamo stati anche accusati di aver falsificato i conti mi fa ridere sentire parlare di sensibilità sociale di fronte a quello che sta accadendo in città di fronte alla manifestazione di volontà di fare interventi strutturali per gli edifici quando sappiamo benissimo il motivo per cui la casa albergo almeno il motivo apparente per cui la casa albergo dovrà essere sgomberata c'è stata una manifestazione importante giorni fa seguita importante con delle persone sul territorio le persone si sono affacciate al balcone questo non è un segnale di una città che sta bene e che risponde ai servizi essenziali e che è attenta alle fragilità perché quello che sta per succedere è un fatto grave ma avremo modo di ritornarci stessa cosa l'amorosità incolpevole diciamolo alla cittadinanza non sono soldi stanziati dal comune sono a bilancio perché ci devono rientrare ma provengono dalla regione quindi altri sussidi rispetto all'amorosità incolpevole quindi alle persone sfrattate in difficoltà non ce ne sono se non in qualche caso straordinario come è avvenuto ultimamente grazie alla collaborazione con l'assessore di fronte prima a una manifestazione di assoluta impossibilità a fronteggiare un'emergenza quindi un comune che non è in grado di fronteggiare delle emergenze sociali con lo stato sociale per me non è un comune virtuoso quindi evidentemente la visione che abbiamo noi di città e la percezione delle lamentele dei cittadini è sempre diversa voto contrario alleanza verdi sinistra consigliere Foggetta sì presidente non ho rubato tempo prima mi permetta di usare questi due minuti per rispondere a qualcuna delle cose che sono state dette e prima di tutto rispondo a una domanda la domanda del presidente Vincelli che chiedeva dove eravate voi durante il covid sa dove eravamo noi durante il covid consigliere Vincelli eravamo a interloquire con i nostri rappresentanti nazionali che andavano in Europa a recuperare quel PNRR con cui avete fatto la maggior parte dei vostri progetti negli ultimi anni ricordiamocelo perché questo e per fortuna ha avuto anche la decenza di dirlo a consigliere Pini perché negli ultimi anni per favore chiedo al pubblico perché negli ultimi anni quel tanto che è stato fatto è stato fatto grazie solo a due cose uno il buon lavoro degli uffici che in molta parte vi abbiamo lasciato noi due i soldi del PNRR che sono arrivati da un governo a cui nessuno di voi partecipava se non ricordo male prima cosa seconda cosa mi permetto di dire mi permetto di dire che sono un po' stanco e mi rivolgo anche al segretario in questo senso sono un po' stanco di sentire da un sindaco certe affermazioni se lei dice caro sindaco se lei dice che ci sono state falsificazioni lo dica portando qui una sentenza che accusa che colpevolizza qualcuno devi farmi parlare devi farmi parlare che colpevolizza qualcuno che riconosce qualcuno colpevole di farsi in bilancio eh no ok sì così funziona sindaco così funziona altrimenti 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 sono solo le parole di qualcuno consigliere Foggetta al prossimo applauso dal pubblico faccio sgonderare Laura dai faccio questo avvertimento non siamo non siamo né allo sladio mamma come sperate che applaudano di nuovo ti chiedo di tenere un comportamento consono e nel rispetto del regolamento dell'aula anche quando ci sono gli interventi dei singoli consiglieri di chiunque essi siano per favore per favore perché altrimenti chiedo scusa consigliere Foggetta eh però io non posso parlare eh no però se abbiamo degli interventi in aula esterni lo dico anche nel suo interesse se poi lei vuole essere seguito da questo quando ho l'attenzione dell'aula possiamo proseguire prego mai una volta ho finito un intervento perché mi piacciono le strumentalizzazioni l'ho sempre fatto presente consigliere Foggetta prego mai una volta ho finito un intervento altrimenti caro sindaco queste queste parole sono solo chiacchiere che lei lancia per fare uno show quando c'è un po' di gente quassù ma non sono cose che noi ci aspettiamo di sentir dire da un primo cittadino di una città come Sesso San Giovanni il nostro voto guarda caso è contrario anche questa Lega Salvini Lombardia consigliere Appini grazie presidente allora faccio presente che in realtà sono stati deferiti all'ordine i revisori contabili forse leggesse quella che è la sentenza della Corte dei Conti perché voi mistificate la realtà e mi spiace che qualcuno là sopra abbia applaudito non sapendo e credendo alle parole sbagliate che vengono pronunciate in quest'aula ripeto sono stati deferiti i revisori contabili quindi la magistratura contabile sta facendo il suo corso lasciamo lavorare perché non vorrei mai che succedesse poi come è successo nella vicina Cinisello Balsamo e il sindaco è finito agli arresti quindi io mi auguro che questo non accada mi auguro che sia distrazione mi auguro che sia malafede no mi auguro che sia veramente un errore purtroppo io ho fatto l'assessore al bilancio in quel momento e le assicuro che c'era tutto perché buonafede e io lo posso affermare a differenza vostra c'era un secondo punto a cui vorrei voluto rispondere fa niente non importa ah sì ecco sì qualcuno ha detto questa sera che la piscina non ha dei costi per i sestesi diversi da quelli che sono i normali costi ebbene anche su questo vi state sbagliando perché i costi sono differenti per i sestesi certo sarebbe piaciuto a tutti ribadisco poter fare meno rispetto a quello che è ma io ricordo che quando costava 7 euro entravano persone a farsi il bagno vestite quindi anche la politica del prezzo aveva un significato se tu abbassi troppo il prezzo diventa quello schifo che è stato per anni che poi è stato abbandonato quindi vediamo di non far finta di sapere che cosa può generare degrado perché quello era degrado a nostro giudizio a mio giudizio se per voi quello non è degrado quando sarete voi ad amministrare ritornerete a fare le stesse errori a giudizio mio gli stessi errori che sono stati fatti in passato ovvero abbassare i prezzi e mettere in condizioni pietose la città rendere in condizioni pietose la città grazie il nostro voto sarà favorevole signore io chiedo ordine in aula nel rispetto degli interventi di ognuno di voi quindi come ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione nell'ambito dei due minuti lo chiedo a tutti sento troppo brusio e troppo casino in aula grazie Forza Italia consigliera Cupido ma noi non scendiamo mai in polemiche sterili inutili e il linguaggio che utilizziamo ci contraddistingue sempre anche il modo abbiamo sicuramente visioni politiche differenti questo è un dato di fatto faremo tesoro laddove è possibile di alcune osservazioni che sono state colte questa è un'aula dove si si risponde a profili tecnici ma si fa anche politica quindi il nostro voto è favorevole Partito Democratico Consigliere Maderloni Grazie presidente fare politica e ricoprire i ruoli istituzionali prevede anche un certo decoro e un certo uso del linguaggio nelle sedi opportune il fatto che per il secondo consiglio consecutivo si usino dei termini che sono denigratori nei confronti di un momento che va da diciamo 70 anni lo troviamo completamente sbagliato oltre al fatto che denigra non solo qual è l'obiettivo vostro i soggetti politici ma anche i tecnici che hanno lavorato nei 70 anni di questa amministrazione di questa città e che hanno fatto sì che non ci fossero solo capanne palafitte in questi 70 anni premesso questo caro signor sindaco lei con il suo discorso non ci ha convinto non ci ha convinto perché quello che noi chiediamo è che la vostra il vostro la vostra visione di città non tiene ancora conto del fatto che non è non è sufficiente per un'amministrazione comunale che è il primo ente territoriale nella nostra città avere i cosiddetti conti in ordine come abbiamo detto all'inizio ma è far sì che chi è più debole chi è più fragile e sia maggiormente tutelato e difeso e fino a che in questa benedetta città questa situazione non sarà garantita il nostro comune non sarà giusto virtuoso come voi dite avremo i conti in ordine ma non siamo virtuosi virtuosi si è in una comunità quando si prende cura dei più deboli e questo deve essere chiaro perché non andremo mai avanti se continueremo solo ad aiutare chi già se la cava e chi ha già le competenze dobbiamo aiutare tutti a migliorare e a crescere questo è l'obiettivo che voi dovete avere perché voi governate voi avete la responsabilità noi che siamo all'opposizione abbiamo il dovere e l'obbligo di indicare quelle che secondo voi sono le strade che voi percorrete in maniera sbagliata questo nel pieno di rispetto dei ruoli nella legittimità che non è mai mancata e soprattutto e chiudo con un linguaggio consono alla vostra carica perché un giorno la carica di sindaco non sarà più a pannaggio dell'attuale sindaco di Stefano perché la legge oggi prevede solo due mandati ci sarà qualcun altro che ricoprerà quella cosa e dovrà farlo nello stesso modo per cui il nostro voto è decisamente contrariamente e convintamente contrario gruppo misto consigliere Vincenni sì grazie presidente allora diciamo che è molto semplice molto facile parlare alle pance per chi non ha idee da trasmettere all'interno di questo consiglio comunale e questo mi dispiace moltissimo qui noi siamo chiamati a confermare o non confermare o a stenerci su quello che è il la delibera sulla variazione chiaramente di bilancio quindi non andiamo a discutere le scelte le scelte se mai suggerisco alla minoranza di portarle non al momento in cui noi facciamo le delibere ma forse anche un attimo prima in modo tale che secondo me confrontarsi su quelle perché da voi io ho sentito pochissime chiaramente progetti pochissime chiaramente idee ma moltissime chiaramente critiche su una gestione che dal 2017 ad oggi ha portato risultati non nelle nostre tasche ma nelle tasche dei cittadini scusate quindi questo è senza dubbio senza dubbio la cosa importante da tenere sulla questione del corte dei conti vi inviterei per cortesia perché parlare si fa presto però bisogna leggere sempre la documentazione corte dei conti sezione regionale controllata Lombardia in relazione al ve la faccio molto breve 2015 nonché di successivi approfondimenti accerta irregolare determinazione della quota accantonata al fondo credi di dubbia esigibilità nei rendiconti 2014 2015 2016 nonché in sedi di riaccertamento straordinario dei residui due la cospicua mole di residui passivi di parte corrente al 31 dicembre 2015 palesemente ritardi nel tempestivo adepimento delle obbligazioni pecuniare terzo l'incompleto riscontro istruttorio in punto di corretta ripuntazione di residui passivi in sedi di riaccertamento straordinario al primo gennaio 2014 nonché al successivo riaccentamento del ordinario al 31 dicembre 2015 adempimento funzionale alla verifica della contradeterminazione del fondo plurineale vincolato e dell'effettiva mole dei residui passivi ecco questo che rimanga giustamente per l'ennesima volta gli atti perché l'abbiamo chiuso il 31 12 2022 voi non parlate più effettivamente di bilanci perché non avete la consapevolezza parlate di progetti ci confrontiamo sui progetti e forse qualche cosa riusciremo a trovare come punto di incontro se parlate di cose che purtroppo non ne sapete non ne capite forse poco sarà sempre secondo me un disastro da parte vostra noi moderati siamo favorevoli a questa abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente buonasera a tutti allora prima una considerazione quando si è parlato dell'intervento è già uscito in quest'aula della partecipazione all'emergenza covid si faceva riferimento ovviamente alla partecipazione nell'ambito della gestione cittadina quello che era il centro operativo comunale che non ha visto nessuno partecipare a questo grosso lavoro che ha visto invece associazioni singoli dipendenti che anche al di fuori dell'orario di lavoro hanno lavorato in tal senso io non ero a conoscenza che qualcuno fosse a Bruxelles a trattare per il PNRR e non lo sapevo di conseguenza chiedo scusa se poi questo invece no io parlavo dei nostri parlavo dei sestesi non delle segreterie nazionali il riferimento prima è stato fatto a questo per quello che mi riguarda poi l'accusa non mi tocca perché io sono raddoppiato i turni in ambulanza e lavorando in ospedale in rianimazione e non dormivo nemmeno insieme alla mia famiglia ma questa è una cosa mia personale un chiarimento sul discorso dell'emergenza covid per quanto riguarda invece proprio squisitamente la dichiarazione di voto noi siamo stati ripresi così anche abbastanza recentemente di poca dinamicità del fatto di non investire i soldi come avete avanzato i soldi e adesso però cosa fate cosa non fate stasera sento l'appunto diverso però la variazione è un po' grosso un po' pesante lecita considerazione però decidiamoci o facciamo o non facciamo se non facciamo non va bene perché accantoniamo solo per dire quanto si sono stati bravi se facciamo però spendete troppo banalizzo non stanno insieme le due cose tutto questo che ovviamente noi apprezziamo moltissimo tutto il lavoro che è stato fatto per arrivare a portare poi una delibera e un lavoro di questo genere scusate la ripetizione di conseguenza il nostro voto non potrà che essere favorevole grazie fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente anche diciamo durante la discussione di queste delibere abbiamo assistito a tante parole ne abbiamo sentite davvero tante poche però sull'ordine del giorno e a me sinceramente dispiace non solo perché poi diventa impossibile confrontarsi su idee e progetti ma anche perché come avete dimostrato finite per tirare via a zappa sui piedi vi faccio un paio di esempi la manutenzione della casa la questione della casalbergo di cui parlava la consigliera Amdi incolpando l'attuale amministrazione ci ha dato solo ragione perché il motivo per cui è stato sgomberato è la mancata manutenzione quello che non è stato fatto negli anni precedenti quindi ci sta dando ragione sulle condizioni che abbiamo trovato faccio un altro esempio stavolta riferito al consigliere Foggetta parla del PNRR ma le ricordo che il commissario Gentiloni non certo nostro amico ha dichiarato che i fondi PNRR sono stati decisi da un algoritmo quindi mi chiedo durante la pandemia voi state interloquendo con chi? con un robot? con una macchina? non so però mi aspetterei un applauso dal pubblico visto che avete fatto prima per favore proseguiamo vabbè niente applauso porto a casa comunque e per favore confermo il nostro voto favorevole Stefano sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente nella pubblica amministrazione così nei comuni parlano gli atti il consigliere Vincelli ha citato un atto quindi meno parole e atti quelli sono tutti registrati e tutti documentati per quanto riguarda il percorso da cui arriviamo faticoso e che ci ha portato qua su questa delibera con meno fatica devo dire perché si può pianificare quando finalmente si va a variazioni attuando come ho detto prima attuando le politiche impostate il nostro voto ovviamente favorevole grazie a tutti passiamo alla votazione per l'alzata di mano della delibera favorevoli astenuti contrari con sedici voti favorevoli e otto contrari la delibera viene approvata sette chiedo scusa a Eras chiedo scusa consigliere Cagliani chiedo scusa non ho visto che era fuori dall'aula poi non so se era una scelta o altro contrari contrari sedici voti favorevoli otto contrari la delibera viene approvata chiedo scusa non avevo visto che era fuori dall'aula passiamo alla votazione attenzione per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari consigliere Foggetta astenuti non ce ne sono con sedici voti favorevoli otto astenuti la delibera esecutiva vi chiedo un secondo di attenzione in merito alla seconda delibera all'ordine del giorno chiedo scusa in merito alla seconda delibera all'ordine del giorno riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 decreto legislativo 267 del 2000 visto che sono stati toccati nella precedente discussione ho vari argomenti siete disponibili a passare a dichiarazione di voto alla votazione o volete discutere la delibera se c'è l'unanimità dell'aula altrimenti se qualcuno mi dice che vuole fare la discussione della delibera la procediamo non era stato paventivato nell'HP gruppo signori chiedo scusa però chiedo scusa rimaniamo un attimo in ordine prego grazie no io vorrei chiedere la parola per fatto personale visto che sono stata citata dal consigliere turolla posso grazie volevo replicare allora il proprietario spetta la manutenzione straordinaria dell'edificio la casa albergo in questo momento ha diverse criticità oltre all'inagibilità per un problema di normativa antincendio tra tutte queste questi interventi di manutenzione che voi siete tanto felici di fare prego chiedo scusa se è un qualche cosa che riguarda quello che ha detto il suo pensiero è un fatto personale se dobbiamo fare una discussione su casa albergo no no non faccio non mi sembra ci siamo fatto va bene va bene grazie grazie a lei in merito quindi chiedo scusa l'opposizione la maggioranza si è già espressa volete fare la discussione o procediamo con dichiarazioni di voto volete fare dichiarazioni di voto sì va bene andiamo una dichiarazione di voto sulla seconda delibera lascerò un po' di flessibilità sulla dichiarazione così passiamo direttamente al punto tre direi se siete d'accordo per alzata di mano siete tutti favorevoli signorio io chiedo scusa sì tutti favorevoli altrimenti non andiamo a capo siete favorevoli a passare alla dichiarazione di voto sulla seconda delibera alzata di mano ok passiamo alla dichiarazione di voto sono previsti due minuti se c'è bisogno di un paio di minuti in più non c'è nessun problema quindi all'unanimità passiamo alla dichiarazione di voto sulla seconda delibera città in comune consigliera Pagani sì grazie presidente allora approfitto del minuto in più per dire avrei fatto un piccolo intervento su questa delibera che sembra apparentemente soltanto tra virgolette una delibera tecnica quindi una registrazione di una serie di spese in realtà poi se si va a vedere all'interno le registrazioni diciamo così delle spese lo dico abbastanza semplice perché così condividiamo le informazioni noi spendiamo oltre 4.000 euro per una causa che perdiamo o meglio perché siamo citati in causa per l'annullamento del provvedimento di cancellazione anagrafica che cos'è il provvedimento di cancellazione anagrafica non lo dico a loro ma lo dico alle persone che sono presenti quando noi l'amministrazione comunale toglie il diritto di anagrafica quindi di residenza ai cittadini questo avviene quasi esclusivamente anzi mi verrebbe proprio da dire esclusivamente nei confronti dei cittadini stranieri questo avviene da molto tempo da molto tempo e le cause tutte le cause che sono state portate a giudizio sono cause perse da parte dell'amministrazione comunale il che fa presumere che non ci siano i presupposti altrimenti le cause non sarebbero perse allora dentro una delibera tecnica ci sono dei passaggi economici che sono frutto di azioni politiche molto concrete oltre ad essere dal mio punto di vista le azioni anche abbastanza vergognose vergognose perché sono atti di razzismo e non hanno un altro modo per essere chiamati e come dite voi siccome ci sono i fogli e ci sono gli atti questo lo dice la sentenza non lo dice Mari Pagani il mio voto è contrario reventiamo sesto consigliere grazie avrei detto anche io avrei fatto anche io riferimento alla sentenza di cui ha parlato la consigliera Pagani perché è l'ennesima l'ennesima sentenza di condanna a danno di questa amministrazione costretta a pagare cari cittadini oltre 4.000 euro di spese legali per aver impedito a un cittadino straniero di ottenere la residenza sul territorio ma vi anticipo anche che probabilmente ce ne saranno altre perché ci sono otto nuclei sempre ricollegandomi alla casa albergo perché per me a differenza vostra questo è un tema molto importante hanno richiesto di ottenere la residenza alla casa comunale e le pratiche sono ferme in giacenza dal mese di marzo quindi ancora ci comportiamo volendo escludere i fragili bisognosi e gli stranieri soprattutto da ottenere la residenza anagrafica nemmeno alla casa comunale perché questo che queste povere persone hanno chiesto di essere residenti alla casa comunale al comune di Sesto San Giovanni e ricordo anche perché mi è capitato di leggere durante la manifestazione che proprio il nostro sindaco prima di essere eletto rivendicava questa politica cioè accusava l'amministrazione precedente di non dare la residenza ai cittadini che le facevano richiesta proprio per non doversene occupare lascio a voi le considerazioni il voto è contrario alleanza verdi sinistra consigliere Foggetta sarò molto più breve di prima sperando di non essere interrotto questa volta e e dico che mi mi rilancio mi raggancio a quanto diceva poco fa la consigliere Apini che diceva tutti vorremmo più soldi per la disabilità ecco a me a noi penso basterebbe non dover mettere più soldi per le cause legate alla disabilità come quelle che l'altra volta ha chiamato strumentali il sindaco tornando al discorso di prima su questa delibera in quella meravigliosa in quel meraviglioso intervento del sindaco in commissione in cui spiegava queste due delibere insieme molto simile a quella di questa sera ma questa sera c'era più energia più enfasi si vede che quando c'è un po' di gente sugli spalti un po' di energia viene fuori mentre quell'altra posso dire che l'ho usata per aiutare mio figlio ad addormentarsi qualche volta si è parlato di questi 4 mila euro di questa sentenza di cui si parlava poco fa come semplicemente in mezzo a quella lista della spesa di cui si parlava di un ricorso per cancellazione e una grafica ha detto anche un po' di sfuggita così di corsa e quando ma lo hanno già detto le mie colleghe che hanno parlato prima di me questo ricorso per cancellazione una grafica è un puro atto di ideologico un ennesimo puro atto ideologico con cui si decide ennesimo ci tengo a dirlo perché tutti lo sappiano come diceva prima qualcuno un ennesimo atto ideologico con la quale col quale si decide di cancellare persone straniere dall'anagrafe della città e che per l'ennesima volta ci porta a pagare una sentenza quindi un atto ideologico che poi va consigliere Vincelli come dicevamo prima a prendere i soldi dalle tasche dei sestesi per andare a pagare la vostra scelta ideologica per questo ma per tante altre ragioni il nostro voto sarà contrario Pega Salvini Rombaldia consigliere Appini il nostro voto sarà favorevole Forza Italia consigliere Cupido il nostro voto è favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni lo fa il consigliere Cagliani diciamo che hanno già detto tutti i consiglieri di minoranza che mi hanno preceduto però visto che su 6.550 euro della quota di avanzo ben 4.000 e rotti euro vanno a finire in queste cause perse io direi che è una cifra importante che potevamo avere a disposizione per il finanziamento di spese correnti se il sindaco avesse dato disposizioni agli uffici perché la responsabilità non è degli uffici che operano la responsabilità è di chi gli dice come operare e questa è una responsabilità del sindaco quindi il nostro voto per questo motivo sarà contrario grazie gruppo misto consigliere Vincelli grazie presidente allora su questa questione poc'anzi citata dalla minoranza allora tecnicamente è una questione degli uffici dove c'è una legge ricordo che l'amministrazione non governa amministra quindi amministra quella che sono le leggi se poi voi da questo atto volete effettivamente prendere l'occasione per dire il centrodestra o la destra estrema eh cattiva e burlona e qui di là è un altro paio di maniche però quando si inizia un atto è un atto che gli uffici anche perché vi ricordo che se qualcuno di noi o il sindaco stesso dovesse chiaramente dire a un ufficio vedi di fare chiaramente gli atti legali è passibile di denuncia quindi quello che voi state dicendo per l'ennesima eh volta probabilmente perché volete sempre solo strumentalizzare è falso favorevole per favore per favore consigliere Pagani ha già intervenuta amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto sarà favorevole fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente voto favorevole Stefano sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente voto favorevole mettiamo in votazione la delibera per alzata di mano favorevoli astenuti contrari con sedici voti favorevoli e otto contrari la delibera viene approvata procediamo sempre per alzata di mano alla immediata eseguibilità favorevoli astenuti contrari sedici voti favorevoli otto contrari la delibera esecutiva passiamo alla terza delibera all'ordine del giorno fondazione di partecipazione generiamo integrazione e contratto di concessione per la gestione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia affidamento servizi ausiliari appalto servizi ausiliari nidi comunali non ci sono relatori di opposizione passo la parola all'assessore pizzoccara per la presentazione anche di maggioranza assessora della parola grazie presidente allora siamo qui in consiglio per affrontare un tema che proprio due giorni fa abbiamo visto in commissione ripercorro brevemente quanto anche già detto in commissione nel 2019 la scelta dell'amministrazione di Stefano fu quello di creare fondazione generiamo per la gestione in in house dei servizi dei nidi nel tempo abbiamo trasferito in fondazione quattro nidi comunali con anche il servizio dell'equip di psicopedagogia quindi rinforzando il servizio di psicopedagogia dell'ente abbiamo anche poi trasferito il servizio piccoli grandi nonché i supporti per i bambini con disabilità anche se non ancora certificata all'interno delle sezioni degli asili nido ad oggi già nel 2019 avevamo percorso con gli uffici l'opportunità di trasferire il servizio ausiliario in capo a fondazione generiamo ma essendo ancora in essere l'appalto della ristorazione abbiamo scelto di cioè abbiamo scelto abbiamo dovuto sostanzialmente soprassedere fino a d'oggi al 31 luglio 2024 scadrà l'appalto definitivamente l'appalto con la precedente gara è già in corso una gara nuova all'interno di questa di questa gara sulla ristorazione non è stata inserita la figura delle ausiliarie proprio perché la volontà è quella di andare a rendere il servizio dell'offerta globale di fondazione proprio armonizzare in modo diciamo funzionale i vari ruoli all'interno dei nidi propri proprio perché ai fini della qualità del servizio è offerto l'unicità del soggetto gestore leggiamo nella relazione del soggetto gestore possa essere nell'ambito di una gestione complessiva del servizio in armonia e raggiungere quindi elevati standard di qualità bene che cosa sono state le riflessioni degli uffici in questi e nostre in questi in questi mesi in cui appunto stavamo preparando questa delibera prima di tutto sappiamo bene che le ausiliarie che lavorano da anni nei nostri nidi fanno parte appunto di un personale che non è il mero personale che svolge delle attività di scodellamento o di igiene di pulizie anche perché con la legge regionale proprio sul ruolo all'interno degli asili nido vediamo proprio che prevede una disposizione in base alla quale il personale ausiliario potrà concorrere a garantire la compresenza minima di due operatori durante le ore di attività non finanziate non finalizzate all'asilo nido to cure ecco che quindi queste figure sono di fatto indispensabili sono figure che già vengono in qualche modo anche coordinate dalle coordinatrici dei nidi proprio perché il servizio sia in armonia bene arriviamo alla parte che credo interessi maggiormente in questo contesto in questa situazione il passaggio di questo servizio ad un diverso operatore che non è un operatore diciamo esterno che accede attraverso un bando di gara crea delle diversità nel trattamento del personale ausiliario ossia ogni bando di gara ogni gara d'appalto sulla ristorazione si andava a susseguire un diverso operatore tanti anni fa avevamo Sodexo poi abbiamo avuto Euro ristorazione e così via fino ad Usman e ogni volta e ogni qual volta vi erano come tutti sanno delle ripercussioni e dei cambiamenti anche sulla gestione sull'organizzazione del personale ausiliario ecco la scelta di portare il personale ausiliario in fondazione in realtà è una scelta di stabilizzazione di questo personale che continuerà nelle sue mansioni in modo proprio organico e continuativamente con uno stesso datore di lavoro l'attuale costo del personale che vediamo a bilancio è di un milione ventiquattro mila euro da questo milione ventiquattro mila euro dobbiamo sottrarre centosettantatremila euro lo leggiamo in nella relazione centosettantatremila euro che sono in capo al personale delle cuoche di cucina che invece resta nell'appalto della ristorazione ecco che quindi andiamo ad avere ottocentocinquanta mila euro la delibera cosa dice? Dice che la dotazione finanziaria che l'ente comunale propone in questa delibera è di settecentonovantacinque mila euro che si compone quindi la differenza tra ottocentocinquanta mila euro che è un milione ventiquattro mila euro meno centosettantatremila euro del personale cuoche fa ottocentocinquanta mila euro bene noi diamo una dotazione finanziaria di settecentonovantacinque mila euro perché? Perché per poter andare in assegnazione diretta in house è necessario dimostrare la migliore economicità rispetto ad andare su un qualunque mercato di gara d'appalto ma ci tengo a sottolineare che la relazione prevede ben settecentoquindicimila euro da dedicare alla retribuzione del personale ausiliario ventimila euro per la parte amministrativa e sessantamila euro per l'acquisto di materiale previsto poi nell'allegato a alla alla regolamento bene quindi il delta di fatto che noi portiamo alla corte dei conti dimostrando che andare in house con fondazione vantaggiosa è di fatto di circa cinquantacinque mila euro che non è altro che il profitto che un'azienda in gara d'appalto avrebbe nel momento in cui decide di partecipare ad una gara d'appalto fondazione non ha questo obiettivo non ha l'obiettivo di profitto una fondazione di partecipazione quindi eh il costo che è stato inserito nella delibera di settecento quindici mila euro è dedicato al personale ausiliario quindi lì tutto deve essere speso eh non può essere in qualche modo non speso facendo sempre dei calcoli sull'attuale eh appunto contratto di lavoro noi vedremmo che l'attuale contratto di lavoro dell'ausiliario Cuba sul monteore analogo perché è quello che trovate nella relazione è il monteore che le ausiliari attualmente stanno esercitando nelle loro attività è analogo all'attuale costo con il contratto eh previsto attualmente dall'azienda che gestisce il servizio se noi andassimo a prendere una paga base di un di un altro contratto vedremmo subito immediatamente che non arriveremmo a 600 mila euro quindi cosa vuol dire che lo sforzo e l'esercizio che il comune ha fatto nel costruire questa delibera è dare un'indicazione chiara palese e molto prescrittiva a fondazione di quello che dovrebbe essere il trattamento del personale quindi eh questo proprio a garanzia eh ribadiamo che il comune ha l'obbligo di un controllo del controllo analogo sulle attività di fondazione e fondazione non può esimersi dall'applicare quello che è presente nel contratto nella eh relazione e nel regolamento grazie grazie a lei assessore apro la discussione al termine della quale presenterò un ordine del giorno presentato dai gruppi di opposizione dichiaro aperta la discussione ricordo i dieci minuti per ogni consigliere più eventuali dieci minuti di raddoppio per ogni gruppo consigliare attendo eventuali richieste di interventi grazie sono interventi consigliere Gatti prego lei la parola grazie presidente e ringrazio nuovamente l'amministrazione i consigli e i cittadini presenti siamo arrivati diciamo alla delibera più attesa probabilmente ma allora mi concedo un minuto chiedo ora a doppio dei tempi mi concedo un minuto di un argomento che magari è noioso ma che ritengo sia doveroso devo dire che il faccio assolutamente in buona fede ringrazio il presidente per il dialogo che abbiamo avuto durante la commissione appunto relativo all'odg che poi verrà che poi presenterò a nome di tutta l'opposizione per essermi venuto in conto per aver discusso sulla possibilità di accoglierlo eccetera eccetera devo anche far mio e purtroppo dirlo in questa sede che mi auguro che non capiti più di avere una commissione soprattutto su un tema così importante a che termini in meno di 48 ore prima rispetto al consiglio semplicemente perché da una discussione stimolante come è stata quella in commissione possono nascere secondo me dall'opposizione ma anche dalla maggioranza delle legittime attenzioni che si possono poi concretizzare in odg emendamenti o in qualsiasi altra forma e mi sembra rispettoso che al termine della commissione ci sia ancora il tempo tecnico per presentare questi documenti del nostro ruolo di consiglieri e anche dell'ascoltare ciò che avviene in commissione del ciò che ci diciamo e che io credo possa positivamente avere delle delle ripercussioni quindi mi auguro che non capiti più registro comunque la grande disponibilità che c'è stata da parte del presidente e di fatti il fatto che nonostante ci siamo prodigati nel fare arrivare l'odg la sera stessa del termine della commissione e sia stato accettato nonostante questa la discrepanza di un paio d'ore rispetto al termine semplicemente la prossima volta se possibile chiederei ringrazio giusto per una precisazione l'odg è arrivato nei termini previsti ovvero il mezzogiorno del giorno prima del consiglio comunale quindi grazie a lei ringrazio e semplicemente per il futuro chiederei un pochino più di tempo in un 48 ore fatto questo cappello io devo dire che ho visto delle sostanziali differenze rispetto a quella che è stata la presentazione che ha fatto l'assessora durante la la commissione sicuramente una presentazione più tecnica più legata a quella che avevo definito io stesso la scatola che si andava a costruire con questa delibera e meno relativa in commissione a tutto ciò che è il contenuto a tutto ciò che è interesse delle lavoratrici dei servizi di ciò che è il loro futuro di come sarà gestito questo passaggio di come sarà il loro trattamento economico il ccnl gli orari eccetera 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 stasera mi è sembrato anzi non mi è sembrato ho sentito da parte dell'assessora le parole chiara indicazione da parte dell'amministrazione a ciò che fa fondazione sono molto contento ne parleremo poi nell'odg vediamo se questa chiara indicazione si concretizzerà nella proposta che abbiamo fatto come opposizione come forza di opposizione devo notare questa discrepanza diciamo con una battuta in commissione sembrava quasi che la mano destra non sapesse cosa facesse la mano sinistra oggi invece abbiamo la consapevolezza che finalmente l'amministrazione dice chiaramente in una sede istituzionale guardate no la nostra idea è che non ci possa essere un euro risparmiato sui lavoratori sulle lavoratrici anzi che vada garantito lo stesso trattamento che vada eccetera eccetera e che l'economicità che è necessaria per poter fare questo cambiamento di appalto per riportare per portare all'interno di fondazione e quindi di fatto sotto il controllo diretto del comune perché fondazione si è una partecipata ma è controllata al cento per cento dal comune una cosa ben diversa da un ente privato che agisce secondo il mercato libero con la concorrenzialità eccetera eccetera fondazione riceve fondi dal comune per fare dei servizi per il comune con del personale che almeno per i prossimi otto anni rimarrà di fatto a lavorare nei servizi comunali c'è una sostanziale differenza e di questa differenza ci si deve fare carico con delle scelte con delle indicazioni che in commissione mi sembrava non solo non ci fossero ma anzi quasi si cercasse di scaricare il problema parlando di tavoli futuri parlando di momenti di discussione successivi addirittura dicendo che non c'era stata la discussione con alcune componenti dei lavoratrici perché non era arrivato una comunicazione che sarebbe stato fatto tutto dopo anche quasi sembrava a voler esautorare il consiglio comunale e la commissione dalle proprie funzioni devo dire che mi pare dalla presentazione fatta che ci sia stato un cambiamento che io accolgo positivamente è stato dettagliato in maniera molto più precisa al profilo dei costi rispetto soprattutto alla richiesta continua che ha fatto il consigliere Maderloni in commissione e diciamo quella frase della chiara e forte indicazione prevista dall'amministrazione ci lascia mi lascia quantomeno qualcosa di più positivo non faccio passi in avanti perché poi presenterò l'ODG però per semplificare la discussione a tutti noi abbiamo un'idea di quale deve essere l'impronta che l'amministrazione dà su il ruolo di fondazione su come fondazione può gestire i servizi che è quella di creare dei servizi che funzionino per i cittadini che siano funzionali utili accessibili aperti che possano accogliere quanto meglio la domanda garantendo una qualità alta di eccellenza come è sempre stato grazie a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che ci hanno sempre lavorato senza mai risparmiare sui lavoratori perché laddove il risparmio si fa su chi lavora nei servizi si crea la possibilità che queste persone lasciano in breve tempo in tempo minore per andare a cercare anche veramente uno stipendio superiore in servizi equivalenti in comuni limitrofi come è capitato come capita con le educatrici che sappiamo avere contratti differenti tra chi lavora assoluta dal comune e chi lavora assoluta dalla fondazione vorremmo scongiurare che questo non si potesse ripetere anche per quanto riguarda le ausiliari e quindi abbiamo presentato un ordine del giorno che poi dettaglieremo dopo che chiede proprio un impegno da questo punto di vista all'amministrazione mi auguro che le frasi fatte durante la presentazione dall'assessore al impegno proposto dalla minoranza dall'opposizione possano collidere essere sovrapponibili e quindi che si possa votare e approvare il nostro ordine del giorno perché significherebbe oltre alla scatola dettagliare anche veramente il contenuto con del valore politico con un'assunzione di responsabilità politica prendendosi l'impegno davanti a tutti i cittadini quelli qui presenti certamente ma tutti i cittadini di Sesto tutti 80.000 che quando si decide di riportare in house praticamente un servizio lo si fa non risparmiando su sull'ausiliare lo si fa perché c'è una visione più complessiva che non passa appunto da un risparmio di quel tipo non entrerò nei dettagli perché la commissione è stata molto lunga molto dettagliata e francamente non non mi sembra opportuno diciamo metto in pausa la mia dichiarazione e la riprenderò poi durante la discussione dell'odg valutando se le parole che ho sentito finora si concretizzeranno in quella in quella sede grazie grazie a lei consigliere Gatti altri interventi in aula consigliere Amdi ha la parola grazie grazie presidente allora sicuramente ci sarà poi da approfondire rispetto ai punti presentati con l'ordine del giorno proposto dalla dalle forze di opposizione allora quello che a me premeva raccontare e che ha destato poi la preoccupazione della lavoratrice poi anche nostre e ci siamo fatti promotori di portare all'attenzione del consiglio le istanze delle lavoratrici è rispetto ad una scelta che il comune ha deciso di adoperare rispetto a questa volta invece ad una internalizzazione del servizio quindi il comune decide di affidare servizi ausiliari a fondazione generiamo allora quello che mi viene da dire è che trovo che l'attenzione che è stata data alla commissione alla quale hanno partecipato le lavoratrici e anche delle rappresentanti sindacali non è stata adeguata all'importanza che questa decisione avrà e le repercussioni che avranno e le vite di queste di queste lavoratrici noi sappiamo e l'abbiamo evidenziato che in virtù delle voci che giravano già la concessione scadrà il 31 di luglio quindi l'allarmismo era da un po' di mesi che che si era venuto a creare c'è stata l'esclusione di una sigla sindacale che è importante che è la CGL rispetto ad una condivisione una concertazione della gestione del della vicenda mentre è stata accolta ai tavoli e alla condivisione delle problematiche una sigla che peraltro non è neanche firmataria del contratto attualmente applicato alle lavoratrici e non è stato fatto non è stata nemmeno data la possibilità perché poi si è fatta eccezione dicendo sì vabbè ma quel sindacato non ha mandato la PEC per poter partecipare sarebbe stato facile magari informare questa sigla sindacale importante e sotto che ha sottoscritto anche i contratti collettivi della possibilità magari di inviare una PEC che non bastava soltanto una telefonata invece di fronte alle telefonate la risposta è stata non possiamo dirvi niente quindi ci siamo ritrovati di fronte alle lavoratrici rappresentate da un sindacato che arrivavano qui senza sapere niente mentre le altre che invece erano state tranquillizzate dall'altro sindacato che ha partecipato all'incontro rispetto a delle rassicurazioni arrivate dall'amministrazione ora quello che però manca e che non è ancora chiaro è come avverrà questo passaggio perché come noi sappiamo i nidi che adesso sono a gestione diretta del comune sono tre mentre ce ne sono quattro che sono già affidati alla fondazione quindi il passaggio avverrà con trattamenti diversi perché in un caso ci sarà un appalto e nell'altro invece la concessione del servizio è ovvio che queste distinzioni porteranno a delle applicazioni diverse anche rispetto al passaggio dei dipendenti dall'una all'altra parte ed erano quelle le garanzie che noi avremmo voluto ascoltare in commissione mentre invece le premesse sono state non è questa la sede anche di fronte ad una platea ampia perché c'erano veramente tante lavoratrici presenti alla commissione che non hanno ricevuto risposta se non rassicurazioni rispetto ad una possibile lavoro di concertazione futuro con le sigle sindacali ora il fatto di non aver informato preventivamente delle sigle importanti il fatto di non aver cercato neanche di arrivare ad un confronto io lo trovo un atteggiamento che per me non è rassicurante per nulla perché non si può arrivare ad una modifica di questo genere soprattutto un'internalizzazione perché è un passaggio importante che non abbiamo mai ancora vissuto rispetto ai servizi ausiliari in questo comune invece sarebbe stato importante mantenere il rapporto con i lavoratori e con i loro rappresentanti questo non è avvenuto non sappiamo ad oggi quale sarà il contratto collettivo nazionale che verrà applicato sì non è questo il momento invece sì io credo che delle rassicurazioni più precise era il caso di darle magari adesso verranno date più tardi ma anche durante la commissione perché le lavoratrici sono al buio totale sì sanno passeranno con generale ma non sanno a quali condizioni ora l'ordine del giorno verrà discusso ci auguriamo che ci sarà collaborazione però diciamo che le premesse di chiusura rispetto ad un atto fondamentale per la nostra città per i nostri servizi essenziali e per le lavoratrici della nostra città non sono secondo me assolutamente rassicuranti grazie grazie a lei altri interventi grazie a lei grazie a lei prego è la parola grazie presidente allora parto da alcune considerazioni provando anche a fare come dire fare differenza rispetto alle cose che sono già state dette per non ripetersi ci provo insomma provo a dare questo contributo innanzitutto noi siamo chiamati qua come consigliere comunali questo lo dico io in questo momento ma è stato detto e ribadito anche durante la commissione sostanzialmente a votare è un passaggio non a votare le modalità i criteri di quel passaggio quindi noi siamo qua sostanzialmente a dire se siamo favorevoli o se siamo contrari all'affidamento o all'appalto insomma dell'affidamento dei servizi ausiliari dei nidi comunali questo è il nostro compito come consiglieri comunali che di per sé è come dire è un compito mi viene da dire da un certo punto di vista un po' ideologico no? nel momento in cui come dire non c'è ciccia e quando non c'è ciccia è difficile capire come applicare dei criteri da questo punto di vista allora quali sono i criteri che ci sono stati elencati in consiglio comunale questi ragazzi noi non siamo mai d'accordo perché si stupisce sono sette anni e mezzo che non siamo d'accordo so via non si stupisca allora quali sono stati i criteri che sono stati elencati nella commissione uno che io trovo anche interessante secondo me è l'idea che la fondazione generiamo nasce perché poi ci sono i percorsi storici non è che le cose cadono come lo spirito santo dal cielo no? perché siamo arrivati a questo punto la fondazione generiamo nasce nel 2019 per gestire in house servizi che dal punto di vista sicuramente di chi ha fondato la fondazione da chi ha costituito la fondazione ma sicuramente in una lettura complessiva sul territorio nazionale quindi non solo se stese servizi che erano difficili e complessi da gestire anche chiaramente come dire forse i più rilevanti dal punto di vista dell'impatto economico all'interno del bilancio comunale altra questione per la quale le fondazioni perché la fondazione diciamo partecipate dei comuni non è che l'abbiamo inventata noi a Sesto San Giovanni ma viva Dio va bene così tant'è che ci siamo anche ispirati abbiamo citato nella costituzione della fondazione generiamo altre fondazioni come quelle delle Emilia Romagna in particolar modo se non sbaglio insomma quella di Modena Reggio Emilia o Modena adesso non ricordo bene ma ditemi Modena infatti ricordavo bene ricordavo abbastanza bene anche perché è stato un modo da parte delle amministrazioni comunali in generale per supplire o sopperire ad una difficoltà molto concreta che era quella di poter avere del personale in aggiunta perché il blocco delle assunzioni che ha comportato insomma all'interno delle amministrazioni comunali è durato per molto tempo non ha non permetteva l'aumento di personale ora a partire da questo la fondazione generiamo mi sembra di aver capito nell'introduzione dell'assessora ha come ambizione quella di tenere in house e gestire il più possibile di quello che riguarda i servizi alcuni servizi che già sta gestendo quindi di per sé questo è un criterio questo per tornare al ragionamento che facevo prima può non essere un criterio come dire esaustivo o sufficiente per essere votato dal mio punto di vista ovviamente ma ne capisco l'intenzione ne capisco l'intenzione anche perché io credo che internalizzare da questo punto di vista i servizi con una fondazione di per sé non è uno non ha un aspetto totalmente negativo la questione però è come poi vengono gestiti i servizi e adesso quello che perlomeno diciamo noi di città in comune la lista che rappresento abbiamo sempre ehm come dire abbiamo sempre messo in discussione in particolar modo e su questo abbiamo fatto riferimento tutti in commissione e in particolar modo come dire quando ehm si all'interno della fondazione per gestire dei ruoli educativi che di per sé sono già pagati poco perché non vengono paradossalmente considerati lavori importanti quando invece sono dei lavori di primaria importanza all'interno del sistema sociale collettivo di un di un paese eh sono eh sono stati applicati è stato applicato un contratto che non solo è differente in peggio quindi peggiorativo rispetto a chi fa lo stesso lavoro come educatrice all'interno del dei comuni quindi del nido comunale quindi assunta direttamente eh dall'amministrazione comunale ma quindi non solo c'è una disparità tra le due professioni ma di fatto c'erano contratti che potrebbero essere migliori di quello che migliori significa una migliore retribuzione a parità di ore di lavoro eh che garantiscono magari anche un'autonomia dal punto di vista della vita perché lavorare per mille euro al mese sicuramente non garantisce a maggior ragione in questo momento ma in generale la possibilità di essere indipendenti economicamente e quindi ehm assolutamente legittimo che ci si ponga dal punto di vista di passaggio a scatola chiusa quali sono i criteri ci si ponga all'interrogativo che gli stessi criteri possano essere applicati anche in questo passaggio e anche in questa nuova internalizzazione non mi sembra che sia una mancanza di coerenza di ragionamento porre questo tipo di questione è stata posta all'interno della della commissione l'assessore ha risposto poi voglio dire rimangono agli atti le registrazioni quindi io reinterpreto naturalmente quello che ricordo ma credo di ricordare abbastanza bene anche perché era due giorni fa ehm l'assessore ha risposto che l'amministrazione comunale metteva a disposizione un importo ehm che era sostanzialmente lo stesso importo previsto per l'appalto integrato e che quindi questo era diciamo dal punto di vista dell'amministrazione ehm fonte di garanzia dal punto di vista della sostenibilità dei contratti dei lavoratori e delle lavoratrici perché dice se io metto quei soldi lì quei soldi lì saranno spesi quando poi siamo entrati nello specifico l'assessore ha detto beh questa sarebbe la nostra intenzione poi però fondazione fa quello che vuole allora ulteriore passaggio a questo punto perché così andiamo per logica rispetto a come si è sviluppata la discussione allora noi abbiamo detto ma fondazione può fare senza che l'amministrazione eserciti un controllo anche qualità attivo che corrisponde anche a una retribuzione che faccia una cabina di regia controllo attenzione non vuol dire controllare come dire nel senso di obbligo perché questo lo sappiamo tutti che non è possibile controllo vuol dire avere ed esprimere una volontà politica che secondo me non è una cosa non influente all'interno di una relazione tra un'amministrazione e una partecipata che cosa vuol dire questo in termini molto concreti che sicuramente staziare le le cifre è importante perché senza le cifre era evidente che la garanzia non c'era ma sicuramente dal mio punto di vista non si esprime solo attraverso lo stanziamento ma anche attraverso l'espressione di una volontà politica da questo punto di vista che vuol dire come dire non occupare uno spazio che non è tuo ma esercitare il tuo ruolo di autorevolezza come amministrazione comunale questo era quello che noi abbiamo chiesto la risposta sinceramente io la ricordavo abbastanza debole come il consigliere Gatti sono contenta di aver sentito esprimere l'assessore una risposta differente oggi cioè o comunque una risposta più decisa una chiara disposizione e guardate che questo non è avvenuto durante la commissione ripeto le registrazioni sono lì non per voi che partecipate ma per chi sta ascoltando in questo momento perché credo che questo significhi due cose prima di tutto che nel momento in cui c'è discussione potenzialità di contestazione le cose possono anche prendere direzioni diverse che peraltro è una cosa nella quale io credo quindi per carità mi confermate come dire uno dei oggi si dice mood con i quali ho vissuto la mia vita sicuramente quella politica e l'altra cosa è che l'amministrazione comunale può assumere sicuramente una volontà e credo che la richiesta formalizzata di quella volontà è l'ordine del giorno che abbiamo presentato allora se l'ordine del giorno ha un valore è un'indicazione se l'ordine del giorno in realtà lo si assume o lo si vota diciamo così perché qua ci sono delle persone ma poi non rivelerà un impegno è un'altra cosa ma sicuramente dal momento in cui un ordine del giorno è ammesso e sarà discusso ha un contenuto che è intenzionale dal punto di vista politico e quindi la legittimità di una volontà politica ci può essere questo è quello che ho ribadito in commissione questo è quello che stiamo chiedendo come consiglieri di minoranza e questo quello che poi sul quale poi entreremo nel merito naturalmente nell'ordine del giorno non mi sembra che le richieste siano o i ragionamenti siano particolarmente esuosi tutti noi lavoriamo tutti noi abbiamo bisogno di lavorare tutti noi nel momento in cui le condizioni cambiano abbiamo paura che le nostre condizioni lavorative peggiorino e diventino più precarie allora è legittima questa preoccupazione è legittima l'ascolto di queste persone che sono qua sono legittime le richieste che noi stiamo portando su anche richiesta dei lavoratori e delle lavoratrici ed io credo che sia non solo legittimo ma credo che sia importante che l'amministrazione comunale si sforzi per il suo spazio per il suo ambito per le sue possibilità a portare avanti queste istanze grazie grazie a lei consigliere vincelli prego grazie presidente il lavoro è dignità per l'uomo consigliere pagani io condivido la prima parte del suo del suo discorso mi ha fatto molto piacere questa cosa perché ha riportato finalmente in questo consiglio comunale e anche per quanto riguarda la commissione veramente all'ordine del giorno quindi la seconda parte sicuramente è un confronto è un confronto e sono convinto che si troverà sempre quando c'è un confronto democratico fatto sui fatti si arrivi anche a una buona conclusione ricordo però che fondazione genera generiamo nasce per non esternalizzare a ipis come volevano fare la precedente e il pd precedente amministrazione quindi che era già pronto il progetto già nel 2017 questo perché già 2017 2018 come presidente del bilancio insieme al consigliere Pogliaghi noi abbiamo redatto proprio un documento molto molto importante dove comunque faceva trasparire costi esosi per quanto riguarda gli asili e per quanto riguarda gli sprechi in modo particolare quindi tutto è partito da questa da questa relazione che abbiamo sottoposto ai consiglieri di maggioranza e alla giunta e da lì piano piano abbiamo iniziato a pensare che cosa poter fare cioè non esternalizzare ma trovare una soluzione quindi guardandoci intorno l'assessore Pizzocchera ha avuto momenti di confronto con diverse realtà dove comunque chi amministrava non era sicuramente né civico né centro di destra sicuramente magari civico ma non di centro destra ma di centro sinistra e siamo arrivati poi a una a elaborare quello che poteva essere la soluzione ideale che però sicuramente ha del tempo per poter operare ricordiamoci che con 2019 dove comunque anche io in un intervento molto forte molto persuasivo e fatto su fondatezza di documentazioni portavamo chiaramente quindi andavamo a dare la possibilità a questa città di avere una propria fondazione che poi da lì denominata fondazione generiamo ecco la fondazione generiamo sicuramente ha un suo percorso ritengo che come fondazione deve avere comunque anche la sua autonomia anche se è una partecipata del comune deve avere una sua autorevolezza giustamente riteniamo che purtroppo questo la divisione che viene fatta ma questo lo vediamo chiaramente in diversi chiaramente settori ma anche nella stessa chiaramente scuola la la questione paritaria delle scuole paritarie la questione pubblica è un 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 problema fondamentale per rinnovare chiaramente anche il sistema scolastico quindi capisco perfettamente che però parliamo sempre all'interno di fondazione un contratto che è un contratto collettivo nazionale siglato chiaramente da da diverse sigle sindacali a cui però lascio a loro quindi io non voglio inefficiare la forza delle dei sindacati all'interno di questo consiglio comunale come mi sembra anzi come ho visto sia in commissione come ho visto in qualche in qualche eh intervento precedente i sindacati fanno il loro lavoro come noi consiglieri comunali poniamo chiaramente con sensibilità magari diversa con visione diversa quello che può essere una soluzione a a dei problemi quindi diciamo che fondazione generiamo è stata per noi eh motivo chiaramente importante per togliere innanzitutto gli sprechi e per arrivare poi a una soluzione sicuramente sempre migliore offrendo sicuramente dei servizi anche più alti rispetto a quello che poteva essere dato nel passato oppure anche in confrontandoci anche con altre ehm con altri chiaramente eh territori grazie altri interventi seppogliaghi prego grazie presidente eh torno eh un attimo ai giorni nostri nel merito di questa delibera perché sicuramente abbiamo proprio dei punti di vista diversi però volevo puntualizzare alcune alcune cose in particolare rispetto non tanto rispetto al tema sindacale che vabbè mandare una pec cioè mi sembra una roba mh abbastanza ovvia ma eh rispetto piuttosto invece al tema di eh andare a ehm considerare cosa vuol dire internalizzare cioè vedete eh allora io lavoro eh ho lavorato tanti anni nel mondo dell'operation mondo privato eh quindi non ditemi inconfrontabile eccetera eccetera grandi bandi grandi cose tipologie di lavorazioni molto semplici molto esternalizzate molto fuori dall'Europa per capirci il sogno di tutti era l'internalizzazione è il sogno di tutto il mondo perché cosa garantisce l'internalizzazione garantisce stabilità ma perché garantisce stabilità perché uno rientra presso un ente presso la fondazione di un ente presso la partecipata di un ente presso una forma di stabilità che ha una catena più corta che non è una pura catena di business mi spiego meglio quando si va a bando su una Dusman o qualsiasi altra azienda competitor di Dusman ovviamente loro devono sostenersi quindi devono fare il loro business devono marginare quindi hanno delle condizioni evidentemente nel rispetto dei contratti nazionali collettivi e tutto quanto ne consegue ma evidentemente devono tenere in piedi la cosa comprensiva di tenere in piedi una struttura di governo dell'azienda che ha il suo margine non è una onlus ovviamente quindi evidentemente da un punto di vista meramente economico è svantaggioso svantaggioso cioè uno va a bando però non è che va a bando sotto costo perché se va a bando sotto costo il bando salta ovviamente se vuole un servizio di una certa qualità deve pagare tutto il suo servizio di quella certa qualità quando internalizza cosa succede? toglie quello che si chiama mark up nelle aziende cioè toglie il margine che la società di quel momento lì fa 10% 20% 5% a seconda di quanto è carrozzata diciamo la operatrice di servizi che vince l'appalto ora cosa succede? succede che questa cosa qua avendo una parità di budget a disposizione può garantire migliori servizi migliori migliore qualità di lavoro quindi anche tutto l'impegno di cui ha parlato la consigliera Pagani stante che parliamo di una fondazione partecipata al 100% del Comune di Sesto e ha nel suo statuto il controllo della qualità quindi è nuda che ripetiamo cose ridondanti c'è nello statuto si tratta di rispettarlo andare verso una soluzione del genere garantisce maggiore qualità garantisce minore costo per certi versi o meglio a parità di budget ho tutto il budget per fare un servizio qualitativamente migliore perché? perché poi alla fine il Comune l'amministrazione che finalità non ha la finalità a fare il markup a fare il margine a sostenere una struttura ha la finalità di rendere il servizio migliore possibile è un tema delicato perché è un tema in cui c'è di mezzo ovviamente i servizi per i minori c'è di mezzo quindi come dire un punto di attenzione su cui le famiglie sono attente ovviamente giustamente lo ero anch'io ho avuto i figli piccoli anch'io ora sono un po' più grandi ma nessuno sta buttando all'aria una cosa sta ricostruendo una cosa che ha una funzionalità migliore ora la bontà di fondazione qual è? è che permette cioè abbiamo creato il veicolo che permette questa cosa quindi qua mi ricollego all'intervento del consigliere Vincelli perché permettere questa cosa? perché questa cosa qua a tendere si scaricherebbe diversamente tutto sulle tasche dei cittadini cioè faccio un esempio vado a bando e vince di nuovo D'Useman e rincara i prezzi e io non riesco a scendere e alla fine a parità di coperture del comune e dell'amministrazione non è che c'è il comune che paga pantalone e c'è sempre soldi da mettere in più a maggiore copertura cosa succede? va che aumentano i costi verso i cittadini quindi questo è per spiegare un po' l'efficienza di come di come combina questa cosa a livello di sicurezza del lavoro ma io firmerei tutta la vita eh io ho visto ripeto nella mia vita esternalizzazioni e reinternalizzazioni ma le reinternalizzazioni che ho visto cioè c'è gente che è come dire sorride ma fino a a mai perché è come avere ripreso ripreso la propria stabilità avere ripreso una come dire un futuro per il proprio lavoro ora se poi questo non è chiaro mi spiace siamo proprio su due livelli di registro comunicativo diversi cioè non c'è comprensione di questa cosa purtroppo e mi spiace grazie altri interventi in aula prego se il progetto allora io prendo in mano questa delibera la prendo prima della commissione la prendo questa sera e non posso soprattutto questa sera e non posso che votare a favore che essere a favore di questa delibera perché e lo diceva poco fa il compagno Pogliaghi che questa sera mi ha davvero superato a sinistra è arrivato a dire che il privato negli appalti parole sue le ho segnate come virgolettato fa puro business e e questo e questo mi sono contento di sentirlo dire e ripeto non posso votare contro questa delibera perché in un mondo normale passare da privato a pubblico internalizzare un servizio vuol dire garantire maggiori tutele vuol dire garantire maggiori istituti previdenziali vuol dire garantire solitamente un maggiore salario però appunto in un mondo normale ma questo non è un paese normale questo questa non è più secondo me da tempo una città normale tanto che l'altra sera arriviamo in commissione e prima ancora che si inizi la discussione ci viene detto ok però parliamo di questo non parliamo dei contratti non si parla del contratto nella delibera non si parla del contratto quindi non ne parliamo quando però lo sapevamo che il punto sarebbe stato quello mi viene un po' da ricordare quanto dicevano i romani e lo diceva anche la consigliera Landucci spesso non so se Assessore La Miranda se lo ricorda quando eravate seduti lì vicini un po' staccati da Di Stefano perché avevate litigato con Di Stefano non so se si ricorda ci sono anche varie interviste adesso però amiconi dicevano i latini e i romani i latini scusate se non petita accusazio manifesta lo dico per per mio padre che non sa il latino ma neanch'io l'ho studiato però questa qui mi è arrivata vuol dire se uno mette le mani avanti solitamente è esattamente dove è andato a pararsi che deve andare a puntare solitamente ma non sempre diceva sempre la consigliera Landucci a pensare male si fa peccato lo diceva anche Andreotti sì preferivo citare la consigliera Landucci preferivo citare la consigliera Landucci era esattamente lì che dovevamo andare a parare e e e questa sera questa sera sento delle parole diverse da parte dell'assessore a Pizzocchera diverse ma non troppo perché io l'altra sera noi tutti l'altra sera quando ci viene detto non si può parlare dei contratti abbiamo capito ma lo sapevamo già che la questione spinosa sarebbe stata sui contratti ma lo sapevamo già perché conoscendo l'assessore all'educazione conoscendo l'assessore al bilancio ci viene da dire un po' di un po' di di sfiducia ce l'avevamo e continuiamo a pensarlo anche stasera e continuo permettetemi a pensarlo anche stasera perché diceva prima l'assessore a Pizzocchera daremo indicazione a Fondazione Generiamo di mantenere intanto mi fa sempre un po' sorridere che Fondazione Generiamo è quella roba talmente ibrida che ogni tanto è il pubblico ogni tanto è il privato ogni tanto è il pubblico che regala tutele di qua e di là ogni tanto è il privato per cui nonostante in qualche modo lo possiamo dire faccia capo all'assessorato però io non posso dire niente su quello mi diverte sempre un po' questa cosa e a me viene da pensare e tra l'altro davvero due giorni fa c'è stato detto e è agli atti non posso non possiamo garantire non possiamo garantire che Fondazione Generiamo mantenga faccia conceda le armonizzazioni contrattuali laddove si decidesse di usare sì è stato detto consigliere assessora Pizzocchera non possiamo dare garanzie è stato detto l'altra sera non possiamo e non credo di essere stato l'unico a sentirlo non credo di essere stato l'unico a sentirlo non possiamo dare garanzie che si concedano le armonizzazioni contrattuali laddove il contratto fosse minore due sere fa non sei mesi fa due sere fa due sere dopo si arriva e già un po' la situazione cambia quello che a me viene da pensare è che ci siamo ricordati che siamo in campagna elettorale e forse una roba del genere poteva essere un enorme autogol e adesso quindi diciamo che daremo indicazione e poi ci vediamo magari dopo la campagna elettorale perché noi lo sappiamo torno a quanto dicevo prima lo sappiamo cos'è fondazione generiamo visto che stasera mi piacciono le citazioni mi viene da citare un altro proverbio che dice hanno fatto il deserto e l'hanno chiamato pace noi qui a Sesto abbiamo anzi voi avete fatto un disastro e l'avete chiamato fondazione generiamo noi sappiamo perfettamente che cos'è fondazione generiamo consigliere Vincelli e non è quella roba che diceva lei prima fondazione generiamo è un istituto creato apposta per tagliare le spese sul personale questo è e questo sappiamo che rimarrà quei famosi risparmi tra l'altro di cui si vanta il sindaco ogni volta che si parla di bilancio dicendo abbiamo risparmiato sul personale adesso non mi ricordo neanche quanto abbiamo risparmiato quest'anno l'anno scorso erano 4 milioni quest'anno di più sono risparmi che di cui io lo dico tutte le volte non mi non mi vanterei perché sono risparmi sulle persone non sul personale sulle persone che compongono il personale del comune ma torniamo a quel paese normale di cui parlavamo prima e che io penso noi non siamo almeno a Sesso San Giovanni e facciamo un confronto tra i due contratti che in questo momento che in questo momento ci sono in essere tra le donne lavoratrici di Dusman e le educatrici che fanno capo a Fondazione Generiamo meraviglioso meraviglioso consigliere Pogliaghi è vero e sfondo una porta aperta con me internalizzare di solito vuol dire aumentare le tutele lo dicevo prima aumentare gli istituti previdenziali aumentare il salario in questo momento facendo un confronto tra i due contratti che sono in essere in questo momento le lavoratrici laddove domani Fondazione Generiamo non cogliesse l'indicazione del comune ma decidesse di mantenere lo stesso contratto che usa per le educatrici le lavoratrici che oggi sono di Dusman e domani diventerebbero di Fondazione Generiamo andrebbero a perdere la quattordicesima andrebbero a prendere un salario un salario un salario minimo è una speranza che continuo ad avere ma che finché ci saranno questi governi faremo fatica ad avere un salario orario minore rispetto rispetto a quello rispetto a quello che che hanno in questo momento e davvero state riuscendo a si rischierebbe si rischierebbe di essere il primo caso nella storia in cui le operatrici di una cooperativa e lo dico perché sono stato per anni educatore di una cooperativa le operatrici di una cooperativa andrebbero a prendere di meno essendo internalizzate sono solo la prima pagina degli appunti ve lo dico per questo io ho chiesto e poi noi abbiamo chiesto in commissione queste armonizzazioni abbiamo chiesto la garanzia di queste armonizzazioni e ci è stato risposto non possiamo dare la garanzia che queste armonizzazioni ci saranno ci è stato risposto perché non ne potevamo parlare dei contratti ma è è questo il punto era questo il punto e lo è anche questa sera perché fondazione generiamo e l'abbia io l'ho detto tante volte e sono contento che questa sera non le guardo perché sennò sembra che sia sono contento che questa sera ci siano tante persone ad ascoltarlo io l'ho detto tante volte fondazione generiamo un organo del una partecipata dell'amministrazione comunale sestese usa fa riferimento al contratto nazionale più svantaggioso in assoluto che si possa trovare sul mercato e adesso non vedo l'ora di sentire il consigliere Bonato che come sempre mi dirà ah beh ma l'ha firmato l'ha sottoscritto anche la CGL sì è vero poi però consigliere Bonato la invito so che quando lei vede un sindacalista comincia a starnutire ma la invito a parlare con qualche sindacalista e vedo che fa anche cenno con il capo per assentire grande vanto mi ricordo quando i sindacati erano stati tolti era un periodo decisamente diverso da quello che stiamo vivendo le direi che se parlasse con qualche sindacalista magari della CGL le risponderebbe le direbbe che sì quando le contrattazioni diventano difficili magari si sottoscrive un contratto stavo per dire qualcosa di sconveniente ma quello deve essere un punto di partenza per arrivare a qualcosa di migliore che di solito passa attraverso contrattazione secondare contratti del genere è difficile che vengano assunti da un'amministrazione comunale a sesto lo si fa e che questo che fondazione generiamo conceda il peggior contratto che c'è sul mercato non ve lo dice o quantomeno non ve lo direbbe solo il consigliere Foggetta o solo i consiglieri e le consigliere di opposizione consigliere Vincelli continuo a chiederle di chiamarci opposizione non minoranza perché non mi sento minoranza rispetto a nessuno va bene io glielo chiedo se poi lei ha questa educazione per favore questo lo direbbero questa cosa questa cosa vabbè non risponde questa cosa che fondazione generiamo concede il peggior contratto sul mercato non lo dice non lo diciamo solo noi ma ve lo direbbero anche tutte le educatrici che fanno capo a fondazione generiamo se non fosse se non fosse e qualcuna ce lo ha detto che c'è un clima di paura lì dentro che è spaventoso che è spaventoso perché no perché no mi dispiace che ridiate di fronte a una cosa drammatica di questo tipo mi dispiace che ridiate mi dispiace che diciate che la maggior parte dei congedi che i congedi delle educatrici negli ultimi anni siano in seguito a gravidanze che già la cosa un po' mi lascia così ma io so conosco tanti nomi essendo educatore parlando con le educatrici vedo che Pogliaghi si fa pazzerizzate conosco tante educatrici che me ne hanno parlato di questa roba e che mi hanno detto che hanno lasciato il posto perché le condizioni erano quelle che erano e io ripeto e riporterò sempre l'esempio di quell'educatrice di cui non posso fare il nome ma che probabilmente conoscete anche voi che ha lasciato un tempo indeterminato per un tempo determinato perché il tempo determinato gli dava più garanzie e invece no sono gravidanze solo ieri sera solo ieri sera sono stato siamo stati tanti in tante sezioni perché non vorrei che poi si andasse a ricercare chi siamo stati alle riunioni dei nidi e proprio ieri sera le alcune educatrici ci hanno chiesto di stare attenti e io sono d'accordo assolutamente con loro a prescindere a non mandare i bambini a scuola quando hanno anche un minimo sintomo di malattia perché intanto perché intanto potrebbero contagiare altri bambini e bambine ma lo dicevano anche per un'altra roba che fa meno sorridere consigliere Vincelli lo dicevano perché laddove ci ammalassimo noi questo ci dicevano laddove ci ammalassimo noi non abbiamo sostituzioni e troppo spesso loro stesse ce lo hanno detto e penso che qualcuno anche qui questa sera lo possa confermare ci hanno detto che siamo dovute venire a a lavorare anche con qualche sintomo di malattia perché il nostro stare a casa sarebbe voluto dire far rimanere a casa una sezione questo ci è stato detto ieri sera e questo diciamolo succede oggi per le educatrici di Generiamo ma domani perché la questione non è solo una questione salariale è una questione di organizzazione domani diciamolo succederebbe anche alle donne che oggi sono di Dusman e domani diventerebbero fondazione Generiamo perché oggi visto che prima il compagno Pogliaghi parlava di sicurezza sul lavoro la sicurezza sul lavoro passa anche da qua oggi laddove una di queste donne fosse ammalata verrebbe sostituita da un servizio jolly della cooperativa di Dusman domani laddove fosse ammalata una delle operatrici di cui stiamo parlando da chi verrebbe sostituita ci sono delle figure jolly verrebbero assunte nuove persone verrebbero assunte nuove nuove operatrici e poi mi permetto di fare anche un passo precedente visto che parliamo di organizzazione queste donne quelle donne le donne che oggi sono Dusman e domani diventeranno Generiamo ci tengo a dirlo è garantito è scritto nero su bianco che saranno tutte che passeranno tutte da dove sono adesso a fondazione Generiamo è scritto nero su bianco perché perché se il servizio viene dato in appalto scattano le clausole di garanzia tali per cui chi lavora in questo ente viene assunto in questo altro ma se non è un appalto e se e se fatemi va bene dopo sarò contento di essere smentito sarò contento di essere smentito signore chiedo scusa dopo eventualmente l'assessore a modo di replicare terminata la discussione prego io eh consiglio Foggetta proseguiamo la discussione perché per quanto riguarda per quello che so io poi lei dirà il contrario se ha altre informazioni per quanto riguarda chi passa negli appalti viene appunto scattano le clausole di garanzia vengono assunte in automatico per chi eh per chi invece non passa un appalto quindi per chi viene assunto da fondazione Generiamo e lavora sui nidi di fondazione Generiamo probabilmente invece per quello che so io dovrebbe passare attraverso una selezione è così io so e sono pronto a sottoscriverlo che è così mi è stato detto da sindacalisti e da persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni quindi però dicevamo prima ehm assumerete nuove persone per sostituire le donne di cui stiamo parlando fatico a crederlo anzi lo so che non sarà così e mi chiedo perché eh in quel bilancio precedente che abbiamo eh votato qualche mese fa forse un po' troppo di fretta come diceva il consigliere Gatti perché anche in altri momenti non si è pensato di ragionare su più assunzioni visto che quando si è parlato del bilancio il il sindaco è stato eh dettagliatissimo nel dirci chi è stato assunto i ventisette nuove le ventisette nuove assunzioni dello scorso anno ha detto molto velocemente però che ce ne sono state ventuno di congedi o di pensionamenti che non sono stati sostituiti forse ci si poteva pensare forse ci si poteva lavorare e ehm e quindi mi viene anche da chiedere perché non si è pensato visto che si voleva tutelare le lavoratrici visto che si voleva dare un servizio migliore perché non si è pensato visto che i soldi evidentemente a sesto ci sono eh di assorbire nel corpo dipendenti queste queste educatrici invece di passarle a un ente che è quello di cui stavamo parlando quel disastro di cui stavamo parlando prima e e e e poi dall'altra parte c'è tutto un altro passaggio eh se parliamo delle educatrici io ho parlato un po' con le con le donne con le operatrici del di Duzman che domani diventeranno generiamo e c'è una differenza grossa tra eh le educatrici dei nidi che fanno capo a fondazione generiamo e queste donne che l'età media di queste donne è decisamente diversa ed è decisamente non si offenda nessuna è decisamente più alta rispetto a quelle delle educatrici quindi l'educatrice per quello che dicevo prima non per le gravidanze ma perché scappano molto spesso hanno hanno mercato sono ancora sono spesso molto in ancora in grado di rilanciarsi sul mercato del lavoro molto spesso però le donne di cui stiamo parlando hanno un'età tale per cui può essere molto più difficile ricollocarsi da altre parti e questo mi viene da dire le rende agli occhi di chi vede male vede nero le rende ancora più ricattabile questa cosa perdonatemi ma mi spaventa di più io chiudo 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 velocissimo dicendo che io avrei dovuto votare a favore avrei voluto votare a favore di questa delibera detto tutto quello che ho detto non posso non ma la dichiarazione di voto la farò dopo e mi permetto di dire che comunque avrei votato contrariamente e voterò contrariamente anche laddove venissero garantite le armonizzazioni di cui parlavo l'altra sera perché e mi è stato detto proprio da queste donne mi è stato detto da tutte le donne che lavorano nei nidi perché perché i nidi sono una mi è stato detto da loro uso una parola usata da loro sono una famiglia e a questa famiglia compongono a questa famiglia partecipano le cuoche che in questo momento sono fuori dalla discussione le operatrici che in questo momento sono le persone di cui stiamo discutendo e le educatrici che domani laddove anche arrivassero le armonizzazioni continuerebbero ad essere quelle che continuano ad avere un contratto terribile che io per quanto partecipante all'amministrazione comunale non posso accettare che venga fatto a delle donne a delle lavoratrici che hanno in mano la cosa più preziosa che abbiamo che sono i nostri bambini e le nostre bambine altri interventi in aula per favore per favore capisco la delicatezza dell'argomento però chiedo di rispettare il regolamento in aula posso intervenire? grazie buonasera a lei buonasera a tutti io durante i miei interventi tendo comunque non personalizzare ma vedo che lei foggetta non riesce a stare senza citarmi e devo dire anche che dalle incredibili facoltà di preveggenza lei è in grado di sapere prima che cosa direi io di che cosa succederà poi a tutte le persone che sono qui dentro di tutto quello che accade a questo punto se mi dà anche qualche numero dell'otto magari me lo gioco riguardo al fatto dei contratti quello che ha detto la CGL volevo semplicemente riportare quello che è un fatto ci sono ben 22 contratti nazionali con paghe ben inferiore ai 9 euro siglati dalla CGL non lo dico io ma lo dice un prode comunista che si chiama Rizzo e quindi direi che bisognerebbe comunque prima di dire certe cose andare a fare anche determinate verifiche il mio intervento finisce qua e non ho tra l'altro da aggiungere grazie presidente signori sento troppo brusio lo dico nel rispetto degli interventi dei singoli consiglieri consigliere Ghezzele la parola grazie presidente buonasera buonasera a tutti buonasera ai presenti e anche ai collegati ma allora ehm avendo vissuto un po' tutto il percorso perché ero al fianco dei consiglieri che parlavano prima e raccontavano la lunga analisi ricordo ancora le serate che avevamo speso fino alle due di notte più o meno a riguardare le cifre che non tornavano dei servizi delle coperture perché il problema era come sapete tutti che si era arrivati a un livello in cui non era percorribile continuare con il regime esistente chiamiamolo così senza allusioni alcuna scusatemi detto questo io faccio vorrei fare un intervento un attimo di valore allora intanto chi ha detto che la ristrutturazione sia sempre o comunque l'ottimizzazione dei costi sia sempre un male visto che dall'altra parte di questa sala c'è gente che è particolarmente sensibile io lo suono in un'altra forma magari ma anch'io sono sensibile al concetto di ridistribuzione quello che è stato fatto sulla sulla fondazione è andava esattamente in questa e va esattamente in questa direzione perché il poter continuare ad offrire dei servizi quando non ci sono le cifre non è difficile da capire perché è come se uno andasse a un supermercato con 100 euro lo facciamo tutti i giorni e poi andasse in un altro supermercato e comprasse esattamente le stesse cose venendo via con altri 20 euro che gli sono avanzati ecco immaginate che però questi 20 euro qua non ci fossero non c'era non c'era la possibilità di riuscire a fare diversamente quindi così come noi siamo attenti nelle nostre cose quotidiane cioè non c'è dietro la volontà di distruggere alcunché c'è dietro il desiderio di ridistribuire un servizio che aveva che ha le sue i suoi pregi ho mandato i miei figli sono andati negli asili nido del comune e a parte l'ultima esperienza ne ho tre di figli l'ultimo sinceramente me lo vedevo là un po' abbandonato nell'angolo quindi lì avrei tirato un po' di orecchie a qualche operatrice pomeridiana però io sono stato nel complesso contento di questo servizio quindi quello che fu fatto e ricordo quale serate e gli sforzi che l'assessore Pizzocchera quando poi salì appunto diciamo nel suo ruolo insieme all'allora capo di gabinetto Cristina Crupi si spaccarono la testa per riuscire a trovare una soluzione che fosse comunque veramente realisticamente percorribile e vado al secondo punto quindi il primo il primo tema è la questione della ridistribuzione perché comunque accettare di rientrare in canoni poi ho una visione personale anche a livello nazionale secondo me andrebbe fatto questo pensiero perché se ciascuno analizzasse nel profondo quello che è diciamo la sua responsabilità e anche la sua possibilità di adeguarsi a un cambiamento forse l'Italia anche farebbe un pochino meno fatica la faremo un pochino meno tutti questo scusatemi questo non voglio dire ciascuno ha la propria conosce quello che è il proprio ambito e quello che tra l'altro è stato appunto la proposta di fondazione va nell'ambito scusate nella direzione di conservare non è assolutamente nella direzione di stravolgere questo lo dico perché il secondo punto che mi sta a cuore è quello della vigilanza il motivo per cui è stato scelto un modello come quello di fondazione e questo lo dico anche rispetto a quello che la consigliera precedentemente sosteneva cioè il motivo per cui è stato creato a fondazione è che era anche qua l'unico modo per riuscire a garantire un servizio valevole come dicevo prima fruito positivamente da tutta la città tenendolo ancora una volta in piedi e quindi il tema di avere creato questa realtà all'interno dello stesso ente era lo strumento ed è lo strumento per arrivare perché ce l'ha nello suo statuto quindi vorrei calmare gli animi degli agitati ce l'ha nel suo statuto il fatto di conservare il valore educativo di quello che è stato portato negli anni e creato anche dalle precedenti amministrazioni qua adesso non me ne frega niente di fare il ping pong eccetera quindi fondazione ha esattamente questo valore non è che con una cosa con una da una parte prende una scelta e dall'altra vuole andare contro a se stessa sarebbe un mostro che si mangia da se non è così non è così quindi bando alle strumentalizzazioni è chiaro che però poi così come i bravi amministratori guardano alla fine del mese non so se lo fate io lo faccio non tanto volentieri a volte ma guardano come è andata all'interno nell'arco del mese l'andamento delle proprie spese e magari cercano di ottimizzare su certe cose non rinunciando alle cose fondamentali perché questa è la cosa fondamentale è chiaro che qualche aggiustamento ci può essere ma chi ha detto che questo sia male per forza quindi la seconda questione del vigilare ecco ci tengo a tranquillizzare su questo perché è un argomento sul quale veramente ci siamo spaccati la testa anche qua fino a tardi la fondazione mi dispiace che venga definito come una roba ibrida certo è difficile probabilmente da capire ma perdonatemi è un colpo di genio io non riesco cioè io la trovo un colpo di genio perché ha permesso questa è la mia visione poi dopo per l'amor di Dio contestabilissima però intanto oggi stiamo permettendo a dei servizi di continuare ad essere sul territorio fruibili da tutta la cittadinanza poi se vogliamo fare un po' di politica il modello della fondazione è stato copiato da Modena Modena qualcuno si vada a documentare non era non è certo della nostra della nostra parte quindi è un modello intelligentemente generato anche creato scusate generare facciamo è generato da generiamo dicono qua di fianco no allora è un modello virtuoso che è stato creato da persone che sono anche lontane per certi versi dalla nostra parte politica quindi a dire che quando le idee sono buone l'Emilia Romagna su questo in tante cose è intelligente bisogna dirlo cioè funziona certe cose funzionano Roberta Pizzocchia è andata a documentarsi su questo e ha portato a casa questo modello quindi anche qua poi io finisco questo questo intervento però anche con una con una con una come si può dire una chiamata all'onestà storica io ho davanti un articolo di giornale del 29 giugno 2015 il giorno andate a cercarvelo su internet a sesto il primo sciopero dei dipendenti comunali siamo una risorsa e non un costo nel 2015 si parlava l'allora assessore Roberta Perego iniziava a parlare sull'esternalizzazione dei centri di urni disabili forse qualcuno è giusto che si vada a rispolverare un pochino la memoria quindi oggi stiamo discutendo esattamente della questione opposta stiamo cercando di valorizzare tutta l'esperienza delle persone che sono penso anche qua sedute tra noi grazie 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 presidente se me lo concedete leggerei una fondazione di partecipazione una particolare forma giuridica di fondazione che si distingue per la partecipazione attiva di vari soggetti alla gestione e al finanziamento delle sue attività questo modello ibrido è ibrido effettivamente è caratterizzato da una combinazione di elementi sia dalle fondazioni tradizionali sia dalle associazioni promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato la fondazione di partecipazione coinvolge diversi soggetti che possono essere sia pubblici che privati in un processo decisionale condiviso questo si traduce in una governance inclusiva e collaborativa e questo è esattamente quello che accade oggi a Sesto San Giovanni che più volte è stato rappresentato in questo consiglio comunale come la fondazione tradizionale le fondazioni di partecipazione proseguono obiettivi di utilità sociale o culturale senza scopo di lucro e sono strettamente connesse quindi alla gestione che viene data dall'ingrizzo che viene dato dall'ente comunale la presenza di molteplici partecipanti permette una maggiore flessibilità e adattabilità alla gestione dell'attività favorendo l'innovazione e la risposta rapida e i cambiamenti alle necessità del contesto e oggi siamo qui appositamente per far fronte alle necessità del contesto gestione privatistica le fondazioni di partecipazione mantenendo una vocazione pubblica e di interesse generale adottano spesso modalità gestionali tipiche del settore privato questo include una gestione orientata all'efficienza alla trasparenza e alla misurazione dei risultati e questa sera stiamo parlando esattamente di questo cioè del contratto che viene modificarsi proprio in funzione del fatto che adotta un sistema privatistico non possiamo parlarne in questa sede quindi non è cattiva volontà da parte dell'assessore o da parte della maggioranza che è brutta e cattiva e non vuole aiutare le signore che stanno sedute là sopra perché quelle signore che stanno sedute là sopra fanno e svolgono un lavoro nobile retribuito e assolutamente utile a tutta la collettività non a una parte della collettività quindi perché non dovremmo averne a cuore anche noi perché dovremmo guardarle e dire chi se ne frega ce l'abbiamo un lavoro noi loro ce l'hanno è precario non è precario no oggi le stabilizziamo quindi mi viene da dire che dov'è questa preoccupazione che queste persone hanno non ci sono non mi sembra che ci siano stati dei problemi così gravi da dover fare sit-in in comune non mi risulta che sono risultate a un consigliere sono arrivate voci che c'è qualche difficoltà sul personale perché se si ammalano le educatrici poi c'è il rischio che appunto debba restare a casa una sezione queste possono essere delle cose sicuramente da valutare a livello anche magari sindacale ma comunque se ne può parlare perché no c'è chi chiude la porta a quelle signore assessore Pizzocchera lei ha mai chiuso la porta a queste persone giusto per capire perché mi si dicono delle cose io lo scopro stasera per come so che lavoriamo non mi risulta che ci sia stata preclusione quindi poi se per caso invece le signore hanno avuto questo problema allora lo facessero sapere ma non a una parte politica signore fatelo sapere a tutti perché vogliamo saperlo tutti se questo non è il momento non è il momento scusate ragazze però stiamo stiamo facendo un lavoro diverso io vi chiedo gentilmente chiedo scusa riportiamo ordine in aula se da pieni proseguiamo sulla discussione certo ho semplicemente invitato le signore a farsi parte attiva perché qui non è una questione politica è una questione di gestione e quindi giustamente deve essere gestita può sfuggire lavorando può anche succedere può per carità io ci metto in conto tutto non ci metto in conto la cattiva fede questo non me lo aspetto da parte politica vi assicuro qui se c'è qualche cosa che non va la mia porta è aperta e penso la porta aperta di chiunque sta anche da quest'altra parte comunque visto che si è svuotata la minoranza direi che abbiamo finito grazie per favore per favore consigliere Gatti non penso che abbia proferito frasi né offensive né altre per favore capisco l'importanza della delibera ognuno esprime il proprio pensiero nel rispetto di quello altrui per favore altri interventi in aula non ci sono altri interventi in aula dichiaro chiusa la discussione passiamo adesso all'ordine del giorno presentato da tutti i gruppi di opposizione primo firmatario consigliere Gatti al quale passo consigliere Foggetta per favore evitiamo queste passo la parola al consigliere Gatti per la presentazione dell'ordine del giorno grazie cinque minuti grazie presidente allora vado velocemente a presentare l'ordine del giorno di cui sono il primo firmatario ma che come dicevo durante la fase di discussione è figlio del contributo di tutti i consiglieri di opposizione e della discussione avvenuta in commissione in particolar modo anche a quello che faceva riferimento nel suo intervento il consigliere Foggetta relativo alla possibilità auspicabile dell'armonizzazione della retribuzione vado a leggerlo così è abbastanza breve così siamo tutti diciamo sullo stesso livello si impegna il sindaco e la giunta a lavorare per garantire con tutti i mezzi a disposizione del comune che il contratto collettivo applicato non possa essere peggiorativo rispetto a quello in essere che non possa essere peggiorativo rispetto a quello in essere con particolare attenzione nei confronti dell'aspetto retributivo delle ore lavorative che tutti i lavoratori abbiano il medesimo trattamento quindi che non si possa avere trattamento differente in base al eh scusa consigliere ragazzi facciamo defluire il pubblico perché altrimenti non si capisce nulla in aula chiedo per favore di defluire con ordine nel rispetto dell'intervento del consigliere Gatti chiedo scusa possiamo proseguire il consiglio grazie allora riprendo come ho dato lettura dell'ordine ma consigliere Gatti chiedo scusa finché non c'è ordine non proseguiamo sto aspettando un po' di ordine per proseguire anche nel rispetto del consigliere Gatti prego consigliere Gatti può proseguire grazie quanto tempo mi rimane presidente anche altre tre minuti e poi recuperiamo grazie allora ho dato lettura dell'ordine del giorno il senso mi pare palese evidente chiaro a tutti e tutte quante è quello di di dare come consiglieri all'amministrazione o se l'amministrazione vorrà assumerlo tanto meglio un impegno un impegno politico che va dal di là delle parole che va dal di là delle dichiarazioni che va dal di là delle chiacchiere assumere o votare questo ordine del giorno potrebbe essere un punto su cui ci troviamo tutti d'accordo quello di non andare in nessun modo a peggiorare il trattamento economico dei lavoratrici che lavorano già nei servizi del nostro comune non è che iniziano a lavorare domani nei servizi del nostro comune che continueranno a farlo nello stesso modo cambiando semplicemente il datore di lavoro cioè per chi lo fanno e passando da un privato non al pubblico come è stato detto in maniera piuttosto sbagliata in alcuni interventi di alcuni consiglieri che mi hanno preceduto ma a una fondazione partecipata perché se fossero state internalizzate non staremmo nemmeno a farla questa discussione perché sarebbero lavoratrici del comune sarebbe tutto un'altra partita sono fondazioni di un ente privato o ibrido come una fondazione e quindi c'è più da puntualizzare questo tema c'è da far sì che l'amministrazione si prenda questo impegno in consiglio comunale non solo con le dichiarazioni e quindi mi auguro che possa trovare se non l'unanimità visto che mi sembra che alcuni interventi abbiano proprio declinato questa possibilità quantomeno la maggioranza dei consiglieri d'accordo mi permetto di usare il mio tempo per fare semplicemente un appunto su quella che è stata la discussione che penso che questo DG si inserisca molto serenamente è profondamente inadeguato che la politica critichi i metodi sindacali sono due mondi che devono dialogare ma non sta a noi dire quali sono le battaglie sindacali giuste che siano contro la destra contro la sinistra o contro il centro il sindacato fa il sindacato e la politica deve fare la politica che la politica dica che i sindacati sono politicizzati o che una parte politica non possa parlare perché i sindacati hanno scioperato contro di loro e benvengano gli scioperi sempre è una delle cose più basse che io ho visto accadere in quest'aula in due anni che siamo qui dentro e non ce l'ho contro qualche dichiarazione in particolare ma contro l'idea che sia la politica a dover legittimare il diritto dei lavoratori a essere sindacalizzati ed eventualmente anche a scioperare grazie passo la parola al sindaco che chiede la parola grazie presidente allora leggendo l'ordine del giorno dove si impegna il sindaco e la giunta a lavorare per garantire con tutti i mezzi a disposizione del comune il contratto collettivo applicato e che non possa essere peggiorativo rispetto a quello in essere con particolare attenzione nei confronti dell'aspetto retributivo e delle ore lavorative che tutti i lavoratori abbiano nel medesimo trattamento allora la delibera e la relazione già indicano quella che è la volontà di mettere il personale ausiliario in condizioni lavorative migliorative rispetto a quelle attuali e la perché la fondazione la fondazione garantisce una stabilità nel percorso assunzionale poiché non saranno più soggetti a variazioni di gare d'appalto che potrebbero essere anche peggiorative considerando anche libero mercato di pari entità e l'elemento finanziario dove la dotazione finanziaria riconosciuta da fondazione viene già tiene già conto di una copertura totale delle attuali retribuzioni del personale ausiliario il contratto collettivo scelto da fondazione potrà essere armonizzato a quella che è l'attuale situazione quindi il controllo che è un altro elemento importante per quanto riguarda la fondazione di partecipazione il controllo analogo da parte dell'ente è già all'interno nella natura della fondazione di partecipazione quindi la vigilanza sull'operato e di attenersi a quanto indicato all'interno della nostra relazione e anche specificato in maniera più chiara più aggiuntiva rispetto a quanto indicato dalla delibera vedo che anche questo ordine al giorno va sulla stessa linea di quella che è la delibera tornando ai contenuti l'anzianità e l'esperienza lavorativa di ciascun ausiliario sarà riconosciuta sicuramente grazie alla dotazione finanziaria iniziale prevista che abbiamo visto prima di 715 mila euro l'ordine del giorno è una semplice sottolineatura di quanto è già previsto all'interno della delibera e riconosce la bontà dell'azione della nostra amministrazione comunale così come indicato sia in delibera che nella relazione così come l'assessore ha spiegato anche i dirigenti in commissione hanno chiarito ai commissari che avevano posto le domande pertanto nulla osta ehm nel nel se c'è l'accordo da ovviamente da parte del presentatore il consigliere Gatti affinché l'amministrazione comuna le faccia proprio questo ordine del giorno presentato eh dal consigliere grazie 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 presidente ovviamente nel momento in cui l'amministrazione assume l'impegno che come opposizione abbiamo deciso di sottoscrivere eh non possiamo che esserne d'accordo eh faccio presente nonostante la eh esplicazione quantomeno eh puntuale o particolarmente puntualizzante del sindaco che il questo ordine del giorno non aveva una valenza di riscrivere gli impegni che voi ponete in delibera ovviamente ma aveva quella di esplicitare che questo consiglio comunale lo avete assunto quindi il consiglio comunale non voterà ma suppongo che la maggioranza sia d'accordo altrimenti immagino sarebbe arrivata questa discussione ritenga il non peggioramento possibile delle condizioni lavorative dei lavoratori dei servizi un punto fermo e per cui avrebbe impegnato il sindaco la giunta lo assumete quindi deduco che ci sia l'unanimità su questo punto e noi non possiamo che esserne contenti grazie chiusa questa fase passo la parola all'assessore Pizzocchera per la replica grazie grazie presidente allora ehm con questa chiusura vorrei andare un attimo a delineare alcune eh fare chiarezza perché mi dispiace che ehm alcune incomprensioni perché io immagino che siano delle incomprensioni da parte dell'opposizione possano portare una non chiarezza eh alle lavoratrici stesse quindi in qualche modo ehm agitare gli animi su tematiche su interpretazioni di parole su interpretazioni normative che non sono la realtà allora intanto a me era sembrato di in realtà condensare in undici minuti nella presentazione esattamente le due ore di commissione però probabilmente eh l'impressione è solo mia ehm scusate eh riaccendo il computer perché devo leggere una norma appena ecco allora per quanto riguarda ehm l'intervento sulla sulle indicazioni cioè qualcuno ha detto nella delibera noi siamo qui chiamati appunto a votare una delibera che ehm ci dà un'unica indicazione quella di spostare le ausiliarie in parafraso eh perché non ricordo esattamente le frasi in fondazione ma non ci dice come non ci dice qua in realtà non è così cioè nella relazione di sei pagine quindi non è che sono ottocento pagine da leggere di sei pagine noi diamo delle il comune dà delle indicazioni su come gestire il servizio eh e come eh spendere la dotazione finanziaria ribadisco questo punto perché è fondamentale la dotazione finanziaria che il comune mette a disposizione spettando le voci in più abbiamo eh un altro documento eh a quello che è in mano appunto che è l'organizzazione e contenuti delle attività ausiliarie presso gli asili nido e modalità di svolgimento del servizio tra cui anche le ore che vengono richieste i turni dove come e perché comunque se non l'avete letto vi invito anche sull'acquisto dei materiali quali materiali acquistare come utilizzare i materiali quindi insomma credo che siamo andati abbastanza nel dettaglio su quanto riguarda la ehm gestione di questo servizio ehm arrivo al punto dei contratti di lavoro ok allora noi come ehm socio unico della fondazione sicuramente possiamo dare delle indicazioni che è quello che abbiamo già ribaduto ribadito anche in commissione e lo ribadisco nel fatto che chiediamo a fondazione di spendere interamente la cifra dedicata a gli stipendi delle ausiliane ok 715 mila euro eh andando a fare un lavoro molto banale di costo di ad esempio l'attuale contratto fanno in sei pagabase di un livello in linea con quello delle ausiliari noi andremo immediatamente a vedere che in realtà sarebbe bastato una dotazione finanziaria di poco più di 500 mila euro quindi da qui già si capisce l'intenzione che poi il sindaco ha espresso in modo chiaro ma armonizzazione perché non possiamo parlare di armonizzazione questo quello che abbiamo detto in commissione quando ci è stato detto allora chiedete a fondazione di armonizzare no perché se fondazione decide di tenere un unico contratto di lavoro quindi andare ad avere un unico tipologia di contratto all'interno delle sue lavoratrici allora si dovrà per poter spendere tutta la cifra armonizzare ma potrebbe scegliere invece di adottare un ulteriore un diverso contratto di lavoro vi faccio un esempio in Duzman le nostre lavoratrici attualmente alcune hanno il contratto del turismo altri multi servizio ok quindi non è vero che hanno un unico contratto tutti uguali non è vero perché perché ogni volta che si cambia gestione in appalto il gestore il gestore del servizio può decidere di fare di fatto un po' quel che vuole arriviamo alla internalizzare allora internalizzare quello che il consigliere Pogliaghi credo abbia detto in modo molto chiaro non significa far diventare cioè diciamo assumerli come comune o comunque impiegati della pubblica amministrazione non c'è solo quello di internalizzazione significa che se tu sei un lavoratore che non è assunto da una cooperativa come giustamente ci ha sottolineato il consigliere Foggetta che lui è stato assunto dalla cooperativa per tanti anni e si trovato bene il nostro personale ausiliare attualmente non è assunto in modo continuativo da nessun ente ok loro fanno parte di un corpo legato al servizio e finché il servizio viene dato in appalto l'azienda che appunto vince l'appalto lo troverà già a disposizione ma attenzione perché la clausola sociale che nella legge 50 del 2016 in modo diciamo esplicito andava ad indicare che proprio che il codice dei contratti si desse maggiore rilevanza alla alle garanzie sul lavoratore la norma diciamo la applicazione di una normativa europea che invece va a garantire prima l'organizzazione del soggetto entrante e lo leggiamo vi leggo giusto il trafiletto in modo tale che insomma visto che non sono una giuridica non sbaglio nell'interpretazione per tale ragione il suo utilizzo cioè la clausola sociale deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante ok questo è recente i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori sono destinatari delle misure legislative in materia di armonizzatori sociali la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa un'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria facendo un confronto rispetto alla DGR del 2000 era possibile visto l'entrata in vigore di questa norma specifica che un terzo delle lavoratrici attuali potesse restare a casa quindi la scelta che comunque già nel 2019 io questo non mi sottraggono dal dirlo era stata quella di avere anche il corpo delle ausiliarie all'interno di fondazione ma è stata sicuramente rafforzata da questa da questa situazione quindi la clausola sociale in questo caso non è più così garantista al contrario io credo che la dotazione finanziaria l'esercizio che comunque è stato fatto anche proprio di mettere fondazione nella condizione di poter scegliere tra un contratto o un altro contratto e armonizzare credo che sia una scelta comunque virtuosa il contratto anni in sei è il medesimo contratto di lavoro che fondazione che la fondazione cresciamo mi sembra che si chiami di Modena ha attuato fin dal 2012 quindi ora io capisco è vero ci sono contratti estremamente interessanti ad esempio quelle delle scuole cattoliche è estremamente interessante poi però tutti i contratti se poi vai a leggere bene contratti di lavoro se ti offrono di più da una parte poi ti tolgono dall'altra quindi insomma diciamo che bisognerebbe essere esperti della materia questo insomma per per dire che la volontà sia dell'ente che di fondazione con cui abbiamo avuto ovviamente delle interlocuzioni è quella di andare incontro il più possibile a quello che è la vita delle nostre lavoratrici perché sono lavoratrici che hanno già organizzato una propria vita e quindi non vorremmo mai che venisse snaturata e per questo motivo noi abbiamo stabilizzato creando proprio un contratto di assunzione a tempo indeterminato la possibilità di avere questo genere di contratto per le ausiliarie del comune dei nidi del comune di Sesto San Giovanni grazie grazie a lei assessore passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto ricordo i consueti due minuti per ogni gruppo città in comune consigliera Pagani grazie presidente allora penso che sia importante il fatto che il diciamo il sindaco a nome di tutta la maggioranza nel consiglio abbia assunto questo ordine del giorno per due motivi il primo perché intanto non non ci sarà più come ci hanno informato i dirigenti durante la commissione non ci sarà più un passaggio in consiglio comunale cioè questo oggetto di discussione di oggi noi non lo discuteremo più e allora se ritorno a quello che ho detto prima rispetto al fatto che come dire c'è un passaggio che a mio avviso non sottolineava in maniera così forte e determinata questa volontà credo che l'assunzione di questo ordine del giorno rafforzi e si prenda un ulteriore impegno nei confronti naturalmente dei lavoratori ma in questo caso quasi esclusivamente delle lavoratrici e io credo che un impegno sia importante credo anche che chi prende un impegno mette una faccia si assume una responsabilità e ovviamente pagherà anche il prezzo qualora questa responsabilità non sarà evidentemente sostenuta in termini di credibilità e di conseguenza anche in altri termini quindi in virtù del fatto che questo ordine del giorno è assunto come città in comune il nostro voto sulla delibera sarà un voto di assenzione che non è un voto a favore ma non è un voto contrario ed è un atto per voi magari è un dettaglio per me non lo è perché sono 20 minuti che ci sto pensando è perché credo nella politica credo nelle scelte e negli atti che faccio in questo momento in cui rappresento comunque una lista civica e un impegno politico cittadino nella mia città quindi non è un voto contrario è sicuramente un atto di fiducia come è giusto che ci debba essere non nei confronti del sindaco in sé o dell'assessore in sé nel rispetto naturalmente delle due figure ma dell'importanza delle cose che ci siamo detti degli atti istituzionali che abbiamo prodotto e che se hanno un valore saranno rispettati grazie presentiamo sesto consigliere amdi grazie allora ci abbiamo riflettuto anche noi ci ho riflettuto anche io e il mio voto non può né essere favorevole né di assenzione io mi sento di essere comunque contraria a questa delibera nonostante l'assunzione di responsabilità che spero verrà portata avanti da questa giunta proprio perché l'atteggiamento mantenuto fino adesso ci tengo a ribadirlo nei confronti delle lavoratrici nei confronti dell'opposizione nei confronti dei sindacati che chiedevano un'interlocuzione non c'è stata non c'è stata collaborazione non c'è stata condivisione nonostante è stato richiesto non è stato permesso le lavoratrici di intervenire ed è stato ribadito più volte in commissione e non me lo sto inventando io perché l'hanno sentito tutti che non era questo non era questo il momento non era quella l'occasione quindi la delibera stessa per approfondire quali sarebbero state le conseguenze contrattuali retributive anche soltanto di passaggio perché l'abbiamo detto il passaggio sarà delicato soprattutto per quanto riguarda i nidi che andranno in concessione stessa cosa per la presenza di Generiamo Generiamo è un ibrido ma è anche un fantasma perché noi ci saremmo aspettati sempre a tutela garanzia e rispetto delle lavoratrici che erano presenti in commissione che sono qui stasera che qualcuno si palesasse ma questa fondazione continua a essere per noi un fantasma quindi il nostro voto sarà contrario grazie Rega Salvini Lombardia consigliera Pini grazie presidente il nostro voto sarà favorevole Forza Italia consigliera Cupido credo che abbia saltato credo scusa è vero che ho parlato tanto stasera allora intanto sono contento se davvero è come sono contento di sentire la la norma di legge che mi ha letto che ci ha letto l'assessora e andrò andrò a informarmi anch'io ma sono sono contento di sapere che su questo punto sia stato smentito assolutamente visto che lo dicevo prima per tutto il resto per tutto il resto mi viene a dire solo sì è vero ci sono vari contratti ma di tutte quelle donne di cui parlavamo prima sono solo due i contratti servizi di pulizia molti servizi mentre tutti gli altri sono contratti del turismo mi permetto di dire anche che non sono assunti da un ente no sono tutte se correggetemi se sto sbagliando sono tutte donne sono tutte persone assunte a tempo indeterminato quindi sì è vero che domani potrebbe cambiare l'appalto ma è vero anche che quel contratto a tempo indeterminato loro la manterrebbero quindi solo per puntualizzare alcune cose dette durante l'intervento della dell'assessora per il resto io ho parlato a lungo e ho detto che la questione per quanto mi riguarda è importante ed è forte la questione del ehm del salario delle tutele del del contratto è molto importante anche il fatto che per quanto mi riguarda fondazione generiamo è un ente che non posso pensare eh partecipi alla vita dell'amministrazione comunale e che anche laddove le donne di cui stiamo parlando questa sera dovessero essere tutelate restano in fondazione generiamo delle donne che hanno un contratto che può essere usato anche dalla dalla fondazione di eh di Modena ma che io continuo a non condividere a pensare che un'amministrazione comunale non può e non deve agire la consigliere Pina ha già fatto la sua dichiarazione forza Italia consigliere Cupido sì grazie presidente eh sono contenta che che sia rimasto in aula qualcuno e eh fosse anche solo come gesto di responsabilità il voto di forza Italia questa sera è un voto favorevole però mi permetto e mi stupisce che eh nessuno lo abbia sottolineato di aggiungere una considerazione su quest'ordine del giorno partendo dall'assunto per cui Forza Italia avrebbe votato favorevolmente la delibera anche senza quest'ordine del giorno e spiego perché perché garantirvi che ci sarà un adeguamento ai contratti collettivi nazionali allo Stato non è ancora possibile per una ragione precisa se si cerca la giurisprudenza sul punto ci si accorge di un dato è stato detto che il servizio in house e quindi di fatto il vostro lavoro è un po' un ibrido che è la verità perché gravita attorno a due perni di diritto da un lato la clausola sociale che è quella che ha citato l'assessore dall'altra parte però per tutti gli aspetti negoziali si sta aprendo la possibilità di estendere anche all'in house di estendere l'applicazione diciamo così della normativa che è contenuta nel codice dei contratti degli appalti pubblici che prevede che il vostro contratto dovrà essere adeguato ai contratti collettivi nazionali per settore per territorio eccetera a quelli in essere la giurisprudenza però su questo non è ancora consolidata e quindi come dire è eccessivamente presuntuoso a mio avviso che in quest'aula qualcuno di noi superando il legislatore e superando la giurisprudenza vi garantisca che voi da domani avrete un contratto collettivo nazionale del lavoro uguale a quelli in essere questa secondo me è una considerazione profondamente sbagliata detto questo la delibera noi la votiamo favorevolmente laddove ci potesse essere la possibilità di garantirvi questa forma di tutela questa sarà garantita però secondo me a volte bisogna ponderare bene le parole e poi mi permetto so che sto sforando di qualche secondo però mi sono taciuta proprio per riservare tutto in questa fase conclusiva sono rimasta un po' scandalizzata dal fatto che si riporti in quest'aula che qualcuno di voi viva in un clima di terrore o che ci siano delle donne di una certa età ricattabili ecco io di professione faccio l'avvocato e vi invito a denunciare questi fatti Partito Democratico Consigliere Madderloni va bene grazie questo questa dichiarazione è avuta un po' se posso permettere particolare vorrei provare a ritornare sul tema allora noi come Partito Democratico siamo i primi firmatari dell'ordine del giorno che chiarisce alcune legittimi timori e chiede degli impegni che sono stati assunti dal sindaco mi sembra di capire che però la maggioranza questi impegni non li condivide completamente come il sindaco detto questo io credo che la cosa importante è che proprio perché per favore proprio perché per favore la è stato già detto che non ci sarà più nessun passaggio in aula di su questo argomento ma ci sono altri strumenti che il regolamento del Consiglio Comunale prevede quindi auspichiamo e chiediamo già dopo l'approvazione da parte della maggioranza della delibera che venga ipotizzato un possibile nuovo appuntamento con i vertici di fondazione generiamo magari una commissione in cui si monitori effettivamente il rispetto degli impegni che quest'aula sta prendendo oggi quindi noi chiediamo questo e crediamo che l'ordine del giorno assunto dall'amministrazione che obblighi a monitorare la situazione auspichiamo che questa cosa venga fatta per correttezza verso tutte le persone che verranno coinvolte in questo processo e proprio perché auspichiamo che questo impegno venga portato avanti esprimiamo un voto di astensione grazie gruppo misto consigliere Vincelli grazie presidente rimango abbastanza sconcertato stasera da parte ma non da parte del PD lo dico perché posso capire la parte sindacale che è stata attuata da parte di alcuni consiglieri di minoranza estrema ma da parte del PD questa astensione sinceramente non è comprensibile non è comprensibile non è comprensibile non sarà comprensibile a quelli che possono essere già proprio le persone che sono ancora qui cittadini lavoratrici all'interno chiaramente di questo consiglio invece il vostro voto il vostro voto come PD doveva essere rafforzativo per favore per favore il gruppo misto faccia la sua dichiarazione di voto non sono tradizio ma siamo già espressa chiaramente penso che scusate qua siamo in un paese democratico e siamo in un consiglio democratico per favore io scusa io scusa per favore consigliere Vinceli la invito al possibile sulla sua dichiarazione non che voi vi siate tirati indietro su altre dichiarazioni che ho lasciato andare quindi il solito discorso se prima tirate il sasso poi non potete pretendere che di là rimangano buoni no sto dicendo solo che sto applicando consigliere Pagani sto dicendo solo che sto applicando i medesimi criteri non che quando lo fate voi lascio correre e quando lo fanno altri consiglieri devo intervenire mi sembra riguardatevi le registrazioni allora io ho capito che con l'ordine del giorno io ho capito che con l'ordine del giorno scusate è un'espressione politica che porto avanti quindi non do solo il parere favorevole alla delibera ma visto che l'ordine del giorno è stato portato dal in maggioranza da parte del PD e quindi assunto dal sindaco pensavo che anche un rafforzamento giusto perché questo ordine del giorno rassarena quello che sono le lavoratrici e io ne sono contento pensavo che il PD non tirasse solo chiaramente la pietra e poi ritirasse indietro la mano il nostro voto è favorevole grazie consigliere Foggetta mi permetta ha fatto prima una discussione dove ho attribuito affermazioni a ogni consigliere scommetto che il consigliere Bonato dirà scommetto che quel consigliere dirà e non sono intervenuto quindi mi stiamo di applicare il medesimo criterio sto cercando di far scorrere il consiglio comunale nel rispetto di una delibera importante che sicuramente colpisce certe sensibilità però che mi si venga accusato di avere due pesi due misura dopo che lei ha fatto un intervento dove ha messo in bocca dichiarazioni a ogni singolo consigliere che avrebbe avuto diritto a chiedere fatto personale Bonato dirà Pogliaghi farà allora quindi per favore ho cercato di far scorrere però queste accuse non le accetto grazie per favore continuiamo amiamo sesto consigliere Molteni amiamo sesto consigliere Molteni possiamo proseguire per favore Presidente dopo le chiedo per fatto personale dopo valuterò se ci sono gli esperti per favore consigliere Molteni a lei la parola grazie Presidente una meditazione mi sia concessa nella mia semplicità che probabilmente è un po' troppo lineare faccio veramente fatica che qui non cito nessuno faccio veramente fatica porto questo esempio non è un esempio viene fatto un lavoro di commissione nella commissione per favore possiamo rispettare gli interventi del consigliere Molteni grazie sono la minoranza nella maggioranza non è un problema no non sono estremo grazie no io sto parlando di me adesso scherzi a parte non siamo in un dibattito televisivo con l'aiuto del pubblico grazie vorrei riprendere un attimino che non è così semplice a volte poi mi perdo viene fatto un lavoro chi partecipa a un certo punto dice sì mi va bene ma non del tutto per cui propongo queste modifiche perché se queste modifiche vengono apportate la cosa mi va molto meglio e questo è più che lecito è più che costruttivo si arriva al momento poi di legittimare questa decisione legittimare queste modifiche e mi si dice sì però ci ho pensato su tanto sono contrario mi astengo mi astengo ecco io personalmente faccio un po' fatica a capirlo come atteggiamento ma proprio in una linearità poi va bene cioè se io dico voglio giocare con te però le tue regole così non è che mi vanno bene facciamo che anziché la porta da tre metri la facciamo da quattro e io dico vabbè facciamola da quattro sì no però non gioco io faccio fatica a capirlo comunque per tornare a noi il lavoro che c'è dietro è notevole al di là di politica o non politica sugli atteggiamenti capisco che qualcuno non poteva fare a meno magari di esprimere un voto in tal senso perché per riscuotere magari così la possibilità di dire io non ero poi d'accordo ma va bene ok ognuno si assume le proprie responsabilità siamo convinti e penso che l'ordine del giorno stesso lo sancisca cioè lo sottoline convinti della bontà di questo lavoro delle tutele che vengono date ai lavoratori alle lavoratrici nella fattispecie per cui il nostro voto non potrà che essere favorevole grazie fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie presidente ho sentito il capogruppo del PD auspicare tante cose io ne auspico una sola ossia che l'opposizione finalmente una buona volta voti a favore una delibera dopo aver presentato emendamenti e ordini del giorno mi ha un po' anticipato il collega Molteni su questo però effettivamente ma non lo dico per me la polemica lo dico per dare un senso al vostro lavoro perché se presentate una modifica in questo caso è una ripetizione però vabbè non scendiamo nel dettaglio se 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 presentate una modifica o comunque presentate un'idea e poi votate contro o vi astenete nel complesso perde di valore anche quello che avete presentato voi il nostro voto sarà favorevole Stefano Sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente premetto che il nostro voto è favorevole mi sono molto allineato al pensiero del collega Turolla e del collega Molteni che sono appena intervenuti proprio nella la vista sulla votazione rispetto a quello che è stato detto è veramente controintuitiva per essere gentili per essere molto gentili ribadisco il nostro voto è favorevole grazie grazie passiamo alla votazione della delibera per la certa di mano favorevoli astenuti contrari sedici voti favorevoli sette astenuti è un voto contrario chiedo scusa allora avevo visto male sei voti contrari pardon sei astenuti due contrari la delibera viene approvata procediamo con l'immediata votazione dell'immediata eseguibilità favorevoli astenuti contrari con sedici voti favorevoli sei astenuti due contrari la delibera esecutiva passiamo all'ultima delibera all'ordine del giorno approvazione del verbale della seduta consigliare del giorno sette maggio duemila e ventiquattro ci sono interventi in aula consigliere Bonato sì grazie presidente alla luce del verbale che stiamo per approvare e dopo aver attentamente riascoltato la registrazione degli interventi effettuati dai consiglieri mi soffermerei sull'intervento della consigliera amdi effettuato durante la discussione del rendiconto la consigliera ha affermato pubblicamente che all'interno di questo comune vengono utilizzati i soldi dei cittadini per sostenere la campagna elettorale di un candidato all'europarlamento affermazione ribadita in fase di dichiarazione di voto affermando di non avere niente da modificare rispetto a quanto detto durante la discussione della delibera ragione per cui signor presidente sono a chiederle a nome di tutti i consiglieri della lista di Stefano di verificare attraverso l'avvocatura comunale se è possibile formulare querera nei confronti della consigliera per calumnia avendo accusato l'amministrazione comunale di utilizzo di fondi pubblici per scopi privati si è preferito farle questa richiesta qui in aula affinché rimanesse agli atti che le affermazioni della consigliera sono da noi considerate gravi lesive della nostra reputazione e totalmente infondate e che come consiglieri ci riteniamo immotivatamente accusati di avere violato la legge presidente sta facendo un'osservazione sul verbale presidente la calumnia è un venticello come cantato nel barbiero di Siviglia è un venticello che è bene fermare prima che diventi un temporale grazie per quello che posso dire naturalmente come già lo dissi l'altra volta è tutto è tutto agli atti quindi gli organi competenti naturalmente valuteranno nell'ambito della circostanza quanto avverete passo la parola alla consigliera Amdi grazie io non pensavo se arrivasse addirittura a dichiararlo a me ne sono giunte diverse di voce quindi lo sapevo già l'effetto sorpresa non si è instaurato rispetto alla volontà della io sapevo dell'amministrazione di procedere penalmente nei miei confronti per aver detto quello che ho ribadito ossia le due copertine sul giornale rileggetevi il verbale perché io quello ho detto e per me l'utilizzo del giornale finanziato con la pubblicità ma verso il quale nel quale lavorano e per il quale lavorano dipendenti comunali è utilizzare risorse istituzionali per scopi diversi quindi io mi prendo la responsabilità di quello che ho detto devo rilevare dall'altra parte che ritengo che una persona seduta qua dentro che riveste questo ruolo più importante del mio abbia fatto affermazioni molto più gravi riferite a persone più fragili che non sono state evidentemente ritenute importanti come le mie mi fa piacere riscontrare questa volontà affronterò le conseguenze di quello che ho detto e non ho nulla da rettificare grazie altri interventi sì Presidente guardando il verbale della scorsa seduta anche io mi permetto allora tra l'altro questa cosa esco un po' mi fermi se vuole mi ricorda molto la denuncia la querela parte di Meloni a Canfora il clima è evidentemente quello noi siamo un'altra cosa noi siamo un'altra cosa siamo un'altra cosa sì perché il settimana no settimana scorsa il mese scorso l'ultima seduta da parte del sindaco sono venute fuori parole come che dicono vabbè adesso non sto a leggerlo perché il capoverso è molto lungo stiamo parlando di un altro verbale sì 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 sto parlando del verbale ce l'ho qua davanti in cui il sindaco dice che le cause nella quale l'amministrazione è andata sotto e ha dovuto pagare sono cause strumentali e quella stessa sera anche una consigliera comunale ha detto che sappiamo tutti la verità rispetto a queste cause si sono paventate quella sera oltre questa sera ad aver detto quello che dicevo prima il sindaco ma anche qualcun altro ad aver detto che se paghiamo delle sentenze è colpa dei dipendenti e io domani fossi nei dipendenti qualche cosa avrei un po' da diridire io mi auguro senza lanciare querele perché appunto noi siamo un'altra cosa e mi permetto di dire in un certo senso siamo anche migliori noi non lanciamo querele ma io mi aspetto che in questa aula che è quella fondamentale dell'istituzione dell'amministrazione comunale se stese qualcuno richiami il primo cittadino e la maggioranza a un linguaggio consono e a un modo di fare il proprio ruolo di svolgere il proprio ruolo nel giusto nella giusta maniera perché quelle affermazioni sono e penso lo possano dire anche alcune delle persone di là sono vergognose consiglio Foggetta quello che posso dire io chiedo scusa quello che posso dire sicuramente è che la volta scorsa sicuramente richiamo richiamo ad un linguaggio consono la volta scorsa ho detto che ognuno si assume come in ogni consiglio comuniale le proprie responsabilità non sono io a meno che non vengano non vengano commesse offese ottenuti linguaggi scorretti non sta sottoscritto giudicare il peso delle parole pronunciate da ogni singolo consigliere ognuno è responsabile delle proprie ma io non sto parlando chiedo scusa consiglio Foggetta io sto esprimendo un principio generale ognuno si assume le responsabilità delle dichiarazioni che fa e ne risponderà nelle sedi opportune qualora abbia commesso un eventuale reato dopodiché non sta sottoscritto giudicare se una frase o una circostanza è oggetto di reato o meno quindi invito tutti a tenere un linguaggio consono se poi dei consiglieri o chi per essi vogliono fare delle dichiarazioni liberi di farli io non sono un giudice chiedo solo il rispetto reciproco quando rispetto reciproco da parte delle o chiunque intervenga e ognuno si assume le proprie responsabilità quindi penso di aver oggetto nel consiglio comunale scorso adesso lascio la parola anche al consigliere Cagliani chiedo scusa andiamo per ordine però se deve diventare un dibattito io chiudo il consiglio comunale andiamo in votazione quindi mi sembrava giusto a fronte di un fatto visto l'avevamo parlato anche nei giorni scorsi un fatto del genere come è stato secondo me giusto dare una replica alla consigliera Amdi perché di fatto è una frase verbale questo verbale oggi viene approvato poi non è il sottoscritto che deve mandare le denunce in procura o altro ci sono gli organi competenti quindi mi è chiara che questa discussione è andata oltre oltre ma sembrava giusto dare la replica quindi se rimaniamo sul tema bene se dobbiamo andare oltre vi invito a consigliere Cagliani grazie grazie presidente chiedo scusa io non voglio chiedo un po' di ordine di attenzione e chiudiamo il consiglio ma scusate posso io non voglio insegnare niente a nessuno però articolo 93 comma 3 i consiglieri approvazioni annotazioni rettifiche del verbale i consiglieri possono proporre rettifiche o precisazioni al verbale senza la possibilità di riaprire la discussione e di entrare in alcun modo nel merito delle determinazioni adottate cioè uno interviene sul suo intervento se nel verbale è riportato male il mio intervento allora chiedo la parola e chiedo le modifiche o la precisazione è solo questa la votazione in occasione del verbale questo è quanto allora io devo chiedere una precisazione sul verbale allora io nella riunione dell'ultimo se nel rendicolto chiedo scusa ho parlato di baskin ed era riportato in modo corretto poi ho parlato di sitting volley allora lo dico per il verbalizzante si 2 t i n g non siti volley si t e eh ah ok perfetto perfetto allora prenda nota era sitting sitting e invece l'altra modifica sul mio intervento non entro nel merito di quello che scrivono che hanno detto gli altri consiglieri è saltata completamente una frase in mezzo mi se ah allora la ripeto senza riaprire la discussione ragazzi mi raccomando scusate colleghi non ragazzi ma se avete trasformato questa era la frase ma se avete trasformato la piscina comunale scoperta in un lido privato e quindi reso meno accessibile a tutti i cittadini la pratica del nuoto punto esclamativo e la piscina olimpia qui mi fermo perché la frase dopo quando sarà a disposizione dei cittadini questo c'era ma mettendo mettendo solo quando sarà a disposizione dei cittadini non si capiva niente grazie grazie a lei Cagliani Montrasio anche lui aveva una rettifica al verbale una rettifica al verbale di quello che ho detto io l'altra volta quando ho parlato del 110% hanno scritto hanno invitato quelli io ho detto che col 110% hanno aiutato quelli di casa e magari ne avevano due col 110% quante case popolari avremmo potuto fare grazie se fate la rettifica va bene non ci sono altre osservazioni il segretario vuole dire una cosa a conclusione di quanto poco allora volevo dire che sottoscrivo l'intervento del presidente e anche quello del consigliere Cagliani che considero entrambi giusti e non e in armonia tra loro e che su un verbale di diverse ore ci sta che ci sia qualche errore di trasferimento poi ci metto anche del mio perché lì ho corretto e ovviamente sarà aggiustato andiamo in votazione di questo all'approvazione verbale per l'alzata di mano favorevoli ok perfetto signori con ventitré voti favorevoli il verbale viene approvato saluto tutti voi che ci segue da casa il pubblico polizia locale forza dell'ordine per i dipendenti comunali mezzanotte 18 dichiaro chiuso il consiglio grazie 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 grazie